Un video del processo podcast, quel cesso podcast del cazzo Ok marra, fai una stream senza il mio nome nel titolo Ma mi ci avevate messo nel titolo? Perché ci sono sempre periodi in cui il mio nome finisce sulla bocca di altri Dovete accettare che ci sono opinioni e argomentazioni tutt'altro che banali, diverse Ho detto tipo, ma non capisco chi fa ste battute Ma marra, marra, mi hai rotto il cazzo, basta Sei noioso, fammi sentire Billy Bell Ah vabbè Pasolini, eh vabbè Pasolini è forte Pasolini lo governava e voleva mantenere il governo Posso fare la domanda? Chi governava? Chi erano? Guarda Chi governava? Chi erano? Lo sappiamo tutti chi governa il mondo Certo, certo, certo E un potere all'interno dell'amosferenza Non so chi lo nemmeno per scherzo Non devi dirlo nemmeno per scherzo Da loro, chissà Da loro parte tutto Purtroppo è tutto così Giusto? Giusto, regà? Vabbè, ma alla fine Chi è che comanda il mondo? Loro Gli Gli Giusto, regà? Ma che stai a fa' Ricordate che i squali Stanno arrivà' Hello Closhards E benvenuti in questa nuova trasmissione È iniziata Ciao Vittorone Ciao, ciao, ciao a tutti Siamo belli carichi Nonostante la stanchezza Sì, sì, sì Te che dici Marcus Marvin Agler Tutto bene ragazzi Io ci ho tutte domande Su Masterchef Da fa' Vittor Ah, prego Prego È vero, è vero Perché Allora, noi siamo reduci Per recuperarlo ancora Ragazzo Però ho visto Noi siamo reduci Da Vabbè, dai È una bella Sì, è stata bella La presentazione Spieghi, spieghi Mi ha fatto la presentazione Del libro Ho chiesto anche a lui Di venire Perché comunque Le sto facendo In varie città Libro che si chiama? Cosa guardo Cosa guardo In libreria Acquistabile in libreria Tutto, sì, sì Sono consigli sul cinema E sulle serie da guardare In base all'umore In base allo stato d'animo No, il mic Il mic di Vittor è giusto Ma Sono io che devo andare Ancora più vicino Attaccato, bravo Così È perché il mic Dave È vero È il posto del caso Dopo pure mette così Devo limonare Così posso Oh, bello Perfetto Stai nel chill E niente, sì Abbiamo fatto una bella chiacchierata Bel pienone Sì, sì Anche la pancia che fa da supporto È pazzesco È stata grande È fatto apposta È fatto apposta E infatti Dici un attimo St'esperienza a Masterchef Il titano è super fan Sì Dici cosa vuoi raccontare Come t'hanno contattato Guarda, allora In realtà sono super fan anch'io Mi hanno chiamato Che era a giugno E io ero in metropolitana Milano Mi chiamo a questo numero Che non conosco Rispondo Ciao, sono X Ti contatto Perché mi ha dato il tuo numero X Non faccio i nomi Perché volevamo sapere Se eri interessato Un'ospitata televisiva Siccome so come in tv Vengono trattati gli influencer Ho detto Va bene Cosa? Perché io guardo solo Quattro ristoranti Quattro hotel Masterchef E gli fa Tu sei uno che guarda la televisione Ho detto Guarda, guardo solo Masterchef E qualche altro programma di cucina Ok, è Masterchef Ho detto Infatti io quando me l'ha detto Ho detto Ma Sì, a parte quello Ma poi ho detto Metti che non mi sta a piglia per culo Ma allora Cosa devo fare? Io Non è che posso andare là Non sono un esperto di cucina E mi hanno spiegato Che stavano registrando Questa puntata Tema cinema Al Museo del Cinema di Torino E allora Ho detto Va bene Perché avevamo tre critici gastronomici Tre cinematografici Ma uno di questi Lo vogliamo dal web Io non sono un critico Sì, però Comunque È sempre quella branca lì Ho detto Va bene D'accordo E mi aveva detto Che c'erano Steve Della Casa E Canova Quindi ho detto Minchia Comunque Mi era anche un po' intimorito Da questa cosa Ho paura di fare una figura Magari anche Del ragazzetto Che lo metti insieme A questi critici Comunque super titolati Gente che ha scritto Saggi su saggi Dei veri e propri maestri Della critica cinematografica Però ho detto Sti cazzi Però il punto è che Non è che mi hanno detto Subito vieni Mi hanno fatto fare un provino Su Zoom Allora L'abbiamo fissato E direi qualche giorno L'ho fatto Tra l'altro Io non so dirti chi E non so dirti in quanti Ma c'erano anche altri colleghi Che hanno provinato Non ti so dire chi fossero Ne hai battuti tutti Vabbè Evidentemente sì Ma non lo so Perché Si sono sbagliati Una Battle Royale Sì Ma ovviamente Nessuno sapeva Chi erano gli altri Perché Comunque non ha Però boh Siccome Sì Ma poi Il punto è che Non lo so neanch'io Quindi non ti saprei dire E alla fine Mi hanno fatto questo provino In cui mi hanno chiesto Se conoscevo i tre film Che erano Cabiria Al Bar dello Sport Quello con Lino Banfi e Gerica là E Profondo Rosso E siccome li conosco Mena dito Ho detto assolutamente sì Perché Hanno scelto film Che sono stati girati a Torino Ovviamente Cabiria di Pastrone Intendi Proprio quello di Pastrone Dove fu inventato Il Carrel Il famoso E quindi Sì ragazzi C'era anche io Quella chiamata Zoom Va bene Mi hanno scartato Va bene Lo ammetto Ho perso contro Victor Lo possiamo ammettere Dai Ma veramente? No Magari Perché ti giuro Non sapendo Lo poteva anche essere No 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 Ma hanno proprio cagato Cioè peggio Che essere scartato Ininfluente Ininfluente Secondo me non è Per il lato cinema Ma più per il lato cibo Magari hanno sentito Due report Quello che ti mani Hanno detto C'è scamba tutto Hai detto questo Gli dirà qualche chef Gli dirà qualcosa Ma anche perché hanno visto Le recensioni dei panettoni Quello ha aiutato Sicuramente Ormai Massari Non hai mai approcciato il cibo Amici così In realtà si poi è il team Che ti contatta Però finché Mi mandano il panettone La colonna Per San Valentino Mi ha mandato questo cremino Io pensavo Se fosse una scatola Di cioccolatini Lo apro Mentre faccio l'unboxing Ed era un cremino Grosso così A forma di cuore E l'avrò messo Su 14 chili Perché non è che tipo Dici Perché poi te lo devi mangiare Così Non è che lo avanzi Allora a quel punto lì Per cui mi fanno Ma tu sei uno che mangia fuori E ho detto Ma guarda Tendenzialmente sì Mi piace mangiare Mi fa la recensione però L'hai fatta Di la puntata No 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 Di questa cosa di Massari Sì sì Ho fatto tutto Cazzo ce lo siamo persi No Faccio gli unboxini Recupereremo Recupereremo Sì che mi dico Ma si mera che mi hai finito E ho detto No no Io sono lì che sburro proprio E quindi Alla fine Sono andato lì E è stata una bellissima esperienza Perché comunque Tra l'altro Io ho constatato Che credo Una delle Io ho fatto Qualcosina in tv Come tutti Qualche programma Magari ti invitavano Sono sempre molto artefatti Ecco Masterchef A meno La parte in cui ero io No Nel senso che Tu sei lì Loro ti dicono Vai Parli È tutto in presa diretta Non ti dicono cosa dire Il massimo che succede E se dici qualcosa di interessante Magari non sono riusciti A prenderlo bene col microfono Ti chiedo Ridico la cosa E poi da lì parti di nuovo Come stavi facendo Ed è successo un paio di volte Perché per il resto È quello che hai visto Ovviamente è tagliato Certo Però quello che hai visto È quello che è successo Non ci sono stati degli stop In cui ti dico No questa cosa non la devi dire È stato bello Mi sono divertito Ma tu Lì praticamente Per chi non avessi visto la puntata Cosa dovevi fare? Era Era la puntata Era una esterna E io facevo parte Dei giudici Che Che mangiavano A cui portavano Era la di solito La Masterchef Ogni volta Prima della puntata Dove li portano In uno stellato A cucinare C'è la puntata Con i critici Gastronomici Quest'anno ha fatto Questa cosa un po' particolare Quindi ognuno Col proprio tacuino Segnava E tra l'altro I biatti erano a tema cinema Era un tema cinema Era un tema di cui Trefinchi ho detto Ma la cosa interessante È che Abbiamo mangiato tutto Alle cinque e un quarto Del pomeriggio Non c'erano tutti I bonbon di fagiano E le triglie Che erano alle cinque e un quarto Mamma mia Vabbè è buono Il bello è che dovevamo iniziare un po' prima Poi c'è stato un filo di ritardo Ma la cosa divertente Il vino? C'è stava il vino? Sì sì C'è stava anche il vinello Un bel bianco Bianco sincero Non ero proprio A un certo punto Ero anche un attimo Un pochino Tutto un po' più frizzato Ma sì certo Meglio Meglio Esatto Iniziato Esattamente Esattamente Un po' così E il punto è che Cioè Buono Erano tutti buoni i piatti In realtà Però capisci che Mi hanno detto Non mangiare Che tanto lo facciamo Verso le tre Siamo andati lunghi Io non mangiavo Dalla sera prima Stavi morendo Quindi ho mangiato Anche voracemente Solo che ho mangiato Voracemente Della roba tipo Il fagiano alle 5 e 4 C'è capito Che può essere un po' Era buonissimo Era proprio Era l'orario Capito il problema Hai rischiato la morte Un po' sì Un po' sì Porca troia No di questa stagione Ragazzi Di questa stagione Sì è Due o tre settimane fa Com'è il fagiano Com'è il fagiano Beh l'avevo già mangiato Buono Buono Però magari Se lo mangi in orario consono Perché se no Attende un attimo Twitch è pieno Ed è che sta di pollo No Sta di pollo Ma selvatico Cioè Essendo selvaggina Ha quel Non so Quel sapore Che hanno anche Tipo non so Il cervo Quando mi diceva C'è quel sapore Un po' il zinghiale Anche l'agnello Per motivi che non capisco Perché non dovrebbe essere selvatico In teoria però Vabbè l'agnello è buono Però ha il sapore selvatico E divane pesante Per digerire l'agnello Ci metto Anche il fagiano Non è che lo digerisci Proprio a cuore leggero È tosto Alla tosto Sì sì Una selvaggina invece Facile da digerire Del coniglio Eh ma lo sai Non riesco Io mangio spesso I burger di coniglio A posto di quelli di pollo L'ho assaggiato Ma lui ce l'ha il coniglio De via male L'ho assaggiato Ma anni fa Una volta In Abruzzo va forte In Abruzzo In Abruzzo va forte sì Guarda io ti racconto questa Perché c'hai riso Poveri abruzzesi Vabbè che sembrava tipo In lol Questo pezzo va molto forte In Giappone Lo diceva Elio No no Dici così a caso Grazie per il beat No allora Ti dico Io con i conigli Ho un rapporto particolare Perché avevo mia nonna Che aveva L'allevamento Cioè in casa Sopra al terzo piano A questa casa cascinale Con i conigli E io mi ricordo Che quando avevo tipo Tre anni Allora Mattia Devi fare Dobbiamo insegnarti un po' Come funziona Anche la vita contadina Mi porta su Mi dice Tieni fermo il coniglio E vedo mia nonna Ti giuro Zorro Con la mannaia Davanti a me Io così Cioè Ha tagliato la testa Al coniglio Che era nelle tue mani Eh sì Eh ma contadini È una vita contadina È tipo il battesimo Di fuoco E poi li trovai Io sono rimasto stunnatissimo Lei aveva quel lavatoio Il classico lavatoio di pietra Quello inclinato Sì E io tipo Già l'ho traumatizzato Quanti anni avevi? 3-4 È da lì che è iniziata La tua grande passione Per il cinema horror Aspetta È lì che ha sbloccato Poi me li fa trovare A scolare Io mi immagino Tipo Dexter Eh tipo Me li fa trovare A scolare Scuoiati sul lavatoio Io ti giuro Ma a dare l'argento Sì sì Ora ti spiegano molte cose Eh ma tantissime Perché mi piace così Profondorosa Eh capito Sì sì L'ho vissuto L'ho vissuto Sulla mia pelle Un ascensore Però ti ha insegnato Comunque il valore Della carne Ma no Io Non la sprechi dopo Ti dico Io mi portavo anche A dissodare la terra Tirare fuori Quando ero un po' più grande Perché aveva il campo Quindi un po' La vita contadina L'ho vissuta Sulla mia pelle Aveva anche le galline Questa cosa qui Io ho visto le galline Con il colo mozzato Che corrono Ma se Non era una fattoria Però era tipo Una La classica casa Di campagna Però la roba Era buona Cioè Almeno c'è quel ripago Là Io magari Mi dappavo l'occhi Però poi Ma mangiava la gallina Infatti il fagiano Ve lo faceva mia nonna Perché mia nonna Andava a caccia O glielo portavano Amici cacciatori Finalmente qualcuno In questo studio Che è uscito De casa In che senso Con la testa mozzata Eh beh Le galline Se tu al pollo Tagli la testa Il pollo Ti fa qualche Qualche secondo Che corre Oh grazie Clico Sì 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 Vabbè Chi è l'animale Che resiste Il più senza testa Gasparri Chi era? No Secondo me Inizia con la S Però non vuole di Lo sapevo No c'era un animale Che resisteva a un botto La lucertola senza coda Senza coda Senza coda Vabbè C'è stato un tacchino A cui hanno tagliato la testa Guinness World Record È vissuto per otto mesi Senza la testa Cosa? Ed è morto Perché lo nutrivano Col contagoccio Ed è morto Perché gli si è incastrato Un chicco di mais nella gola No vabbè Sdrumox Dite Può essere Scarafaggio Forse lo scarafaggio Massa Otto mesi Ah lo scarafaggio Hai ragione Sì lo scarafaggio Ah ok Vero Vero Lo scarafaggio È tipo immortale Startup Sai che io È credo Una delle poche cose Che mi paralizza nella vita Cioè se io vedo Lo scarafaggio No no Lo scarafaggio Non gli inserti Solo quello? Anche altri inserti Mi fanno schifo Grido Con la voce stridura Ma non mi paralizzo Lo scarafaggio Mi paralizza invece Quello sì Paralisi proprio E greve effettivamente Lo tempo che c'è Nel senso Io ho il terrore Ho proprio il terrore Degli insetti Ora a livello De paralisi Penso le api Le vespe E c'è Marco Madonna Io stavo in piscina E ogni tanto Sembrava tipo Quando facevano Ha visto Quando al grande fratello Che facevano freeze Sì sì Cioè magari Stavo io Stavo io Capito Mi devi all'improvviso Che poi È anche pericoloso Frizzarsi Perché se ti punge So cazzo Tipo io sono super allergico A cose varie E io ogni volta che C'è un insetto Che può pungermi Oppure Quando mi propongono Di mangiare qualcosa di nuovo Io penso sempre Tipo non so Mi danno un frutto Che non ho mai mangiato Lo mangio Pensando Adesso vado in sciocca Frutto del diavolo Esatto Ma tu avete mai mangiato Il durian Mi sa di no Il durian è Che tra l'altro Sembra un frutto del diavolo Se tu cerchi durian All'esterno è uguale Infatti non so Se si è ispirato a quello Oda Non lo so Però E quello è Uno dei frutti Più puzzolenti del mondo Puzza Non esagero Di cadavere Misto a cipolla No è terribile Il suo magnano Io l'ho mangiato L'ho mangiato Sì Credo Di aver avuto Perché Me l'hanno offerto Ho detto proviamo È breve È buono È cremoso Un hater Chi ti ha offerto Un hater No chiedo Che ne so Puzzate e merda Era l'evento L'evento della serie di One Piece Siccome Ah perché assomigliava Assomiglia C'era la sfida Perché è diventata una challenge Di tiktok È un po' tipo il surstromming Sì Sapore come è quindi Allora Sembra È cremoso All'odore quindi Puzza Però è buono di sapore Allora di sapore È più la consistenza che è buona Perché sembra una crema È stranissimo Sa un po' di cipolla Volendo Però è tipo cremoso Però è dolce anche L'unica cosa È che ti giuro Mi è venuta una sguara Dopo terrificante Si è cagato sotto No sotto no Però insomma Diciamo che Si è acquarelloso È un po' Cioè diciamo Ma ha creato Dell'imbarazzo intestinale Importante Perché si parla sempre di merda Ecco perché sono così secchi In Thailandia Secondo me Ti pulisce Delle budella dentro Sì però non è male Fai conto che In certi paesi asiatici È vietato consumarlo Sui mezzi pubblici Per la puzza che fa Non puoi consumarlo Perché ci fanno anche Gli snack Ci fanno anche tipo Le manochiotti Eh sì 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 E' puzza dei cadavere C'è questo video Che è diventato virale Questa settimana Su Vabbè guardate Non vi dico niente A Bali Guarda Ragni volanti Tutti ragni Madonna Sì ma l'avevo vista Una roba del genere Guarda quanti D'astronauta La città dei ragni No a Bali ragazzi A Bali Apicoltore Mi metto quella D'astronauta Ma vi posso dire una cosa A me i ragni Invece non danno Fastidio alcuno Dipende Se sai che so Mortali Ok Così Certo Però mi avrebbe fastidio Qualsiasi essere vivente Hai mai cercato Migale Insulare Poi cercare Su Youtube Vai 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 Il migale insulare Non so se su Youtube Ci sono video Fai conto che Quando lo hanno scoperto Lo hanno scoperto in un pollaio Che ammazzava coniglie e galline Come si chiama Migale Tipo quello di Harry Potter Tipo quello di Harry Potter Quello forse un po' troppo Non so se ci sono video La tarantola Secondo me no Allora ma forse ci sono le foto Perché io non ho mai visto video Ho visto sempre solo foto Del migale Ma è una tarantola però Può essere che Non ti so dire la Però penso che potrebbe essere Però è gigantesco Quello che dico io Una roba Un ragno scomparso Rarissimo Quello di HP È super innocuo in realtà Oddio Ho un metodo Ah di Harry Potter Ho un metodo ma non so se dirlo Mi è venuto in mente Perché ho visto uno di quei video lì Ok Ho un metodo Che ho abbandonato Lo usavo tipo due anni fa Per cercare in testa mia Di uccidere questa mia fobia Per gli insetti Per i determinati animali Ho iniziato a vedere Dei contenuti Che stanno su YouTube Che mettono all'interno Di una tega Due tipi Di animale Differente Ma sono animali tipo improbabili Animali Comuni Che uno si immagina Tipo cani Gatti Coniglie E si ammazzavano tra loro Capito Tipo un combattimento Tipo dei galli Sì 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 E tipo io me ne so Visti tipo una cifra Di questi E un po' devo dire Ti sei anestetizzato Perché in balcone Mi è capitato Che c'erano dei ragni Non ho avuto Quella botta Che c'avevo prima Perché comunque Vedendoli Ti sei abituato l'occhio Ho pure capito un attimo Quale potrebbe Essere un pericolo In testa mia Certo che vederli uccide Sai che io sono cresciuto In città Quindi io sono cresciuto Che da piccolo Era un avvenimento storico Che potesse entrare in casa Un ragno E per me era come Se entrava un leone Quindi ho constatato Che secondo me Con una sorta di abitudine Perché non è che Posso andare in campagna Io sono stato in campagna Per tanti anni Dai nonni E ti posso garantire Che non ti sia Io non mi sono abituato Ha funzionato Allora sicuramente Alla base C'è pure la xenofobia Qualcosa che non conosci Quindi c'hai paura Ok Però il discorso Legato agli arachnoidi O anche alcuni Diciamo abitanti Degli abissi Anche alcune Meduse È una fobia Comunque tipica Hanno poi nomi specifici Ovviamente Però Molte persone C'è l'arachnofobia Ma ce ne so anche altre Perché Comunque Il fatto anche Che molti mostri Siano stati creati Con quelle sembianze lì Se pensate pure Ad Alien Pure l'Aragosta Infatti per quanto è buona Ti mette un po' d'ansia Abbiamo Quello è anche In parte proprio Genetico Paradossalmente Io credo che sia Perché hanno un aspetto Troppo alieno Hanno troppe Troppe zampe Troppe L'Aragosta Il polpo pure Ah il polpo Polpo è spaventoso Ma l'Aragosta ad esempio Ha una roba strana Che nel tipo 7-800 C'erano le rivolte Carcerarie Perché Perché Quando era tipo Anche in Australia Quando sai che C'erano i carceri Perché comunque È stata accata un po' per quello Inizialmente Che era la deportazione Di prigionieri C'erano I carcerati Che erano Costetti a mangiare D'Aragosta Perché non le voleva nessuno Perché sembravano insetti Facevano le rivolte Perché non voleva mangiare Quella roba Perché era cibo Per Cibo e cibo Adesso È perrichissimo Sì è come il pane Il pane di siengale Che era tipo Lo scarto del macinato Adesso può essere Tre euro al chilo Io ergastolato Proprio con piacere All'epoca Se nasceva Loro facevano le rivolte Carcerarie Perché non ci date Questa roba da porci E invece adesso Poi Che è successo Infatti Con la cultura Compensi Le mangiamo Come mangiamo il polpo Altre cose Però Non tutti Ma un pochino Abbiamo questo Questo distacco Qui Con le figure Animali Di questo tipo Perché in effetti Sono completamente Diverse da noi E il fatto che Molti alieni Molti mostri Siano stati plasmati Un po' Su quella roba lì Ha un suo senso Io ho una filosofia Che se si muove Lo posso mangiare Quindi io mangio anche gli insetti Gli ho già mangiati A me infatti Sì Ma Pritti oppure belli Quasi crudi No no Le cavallette No beh no Cotti ovviamente Le cavallette Cotti tipo Le cavallette fritte Sì sì Eh appunto Perché di solito Se mangiano fritti Però fritta è buona pura Merda Quello sapete Avevi proprio Sentito il sapore Io uso tantissimo La farina di grillo Tantissimo La pasta sull'altra Fatta con la farina di grillo Non fanno schifo Un po' Però Diciamo Mi Mi danno fastidio Quelli che so Che possono nuocermi Ovviamente Ah beh certo Ma guarda anche un minimo Tipo pure le zanzare Sì non le tollero Brutte in culo Brutte vere Le zanzare Se tu le vedi bene Le zanzare mi dà fastidio Che magari la schiaccio E mi trovi il sangue Di qualcun altro addosso Vabbè voi lo sticazzi Al massimo muori Volendo anche No ma è lì che so schizzinoso Io non me le schiaccio mai Quando sono addosso Perché le mosche Che vanno su una merda Vabbè ma quello È talmente una piccola parte Comunque c'è un piccolo video Marco c'ha un video Vai 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 Gianluca che Magari noi siamo di città C'è gente che è più abituata Che non si mette paura Questo è un team in Australia Che era in videochiamata Su Zoom Ok Era un ospite inatteso Vai Non c'è il volume Washing veil There are a lot of Sophisticated brainwashing Se's out there What are you The snake behind you The snake behind you Snake Snake behind you Oh my god Se stai in giardino Lo succede There you go Mi pare che 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 Lui sta tranquillo Che la ride Lui sta tranquillo Rodent control officer Seldon Stai nel cielo I don't have a name for it Because snakes can't hear you Anyway È tipo come per noi gatti Hai capito Che passano i gatti Sì 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 Ecco i serpenti Serpenti un po' Mi fanno paura Però io Vedi una cosa De 8 metri Io ho una teoria Vai Allora Ci sono tre luoghi Che secondo me Non sono fatti Per la vita umana L'Australia Infatti non ci andrò mai Cioè sì Ci vivono le persone Ma non è concepito Lo spazio profondo E Trieste Perché è un luogo In cui il vento Trascina i motorini Cioè una volta Sono andato a Trieste Città strepitosa Faccio una salita E dico Ma cosa sono quelle cose Al muro È le maniglie Ma perché cosa? È perché se una volta La bola ti porta via Cioè come fai A stare in un posto Dove il vento Rischia di tirarti via Assurdo 50 mesi Grazie Quelli magri I porelli Devono girare davvero Con i piombi in tasca Ma c'è gente Che non A Trieste C'è gente che ha perso I cagnolini Per la bola Vabbè Ti fai Il guinsaglio De ferro Se poco poco Ti fai quello che sta a lunga Tu puoi perdere Tipo a guilone Ti immagino Ti sei incazzato Su un arbero arcane Capito? Ti vola via arcane E' pericolosissimo Se tu vivi a Trieste Cioè sei temprato Cioè puoi vivere dappertutto Puoi vivere in persino Nel spazio profondo Ti sarò da arcane su un arbero Vero Comperei una bicicletta Ogni giorno praticamente Mi volano Le ho le cappe Con le catene di piombo Volano via Vediamo questo piccolo contributo Del ragno Che diceva Victor La tarantula Larve Camole Tarme Tutto quello che gli passa Per la testa Ovviamente È importante Sempre dargli Non so se è quello che dico io Perché questo è più piccolo In realtà Il calcoletto Non ho capito Ma lo sei mangiato questo? No no Ma sei matto Anche perché Si è parecchio velenoso Il peggiore Mi sa che è il Redback Australiano Che sono minuscoli Sono quelli Che schifo Mica sono quelli Che si mettono sotto La tavolata del cesso Sì bravo Che hanno il culo rosso Però ti ammazzano Ti chiamano mica Three seconds life Sì sì Puoi morire Quelli Puoi andare Scioccano a filatti Così sì Quelli rossi Australiani No Non quelli che dici tu No ma poi Non ci stanno in Italia Quelli piccolini Madonna mia No no Che va al mare Poi la cosa difficile È beccare dei video peri Perché sono tutti tipo Dalle ente prime Sembrano tutti assurdi Poi di base Sono dei video del cazzo Il peggiore È il ragno delle banane Fai conto che se Il ragno delle banane Il ragno delle banane Se in un supermercato Per dire Arriva una partita Con delle banane In cui c'è questo ragno Devo evacuare tutto Perché ha un veleno Che praticamente Questa è una roba Ti viene un'erezione Dolorosissima In che senso Nel senso che ti viene Il cazzo durissimo Ma fa male Perché non è un'erezione Di piacere Dovuta dal piacere E ti si Tipo inizi a vomitare Tu immaginati che Immaginati che Già sei spaventato Che appunto sto coso E ti trovi il cazzo Che ti fa un male Della madonna Cioè guarda che deve essere tremendo Ed è Può essere letale Se non lo Se non prendi l'antidoto E basso le banane Ci sono stati dei casi In cui magari Cioè Lo puoi trovare Nelle partite di Ma assurdo però Cioè O fa apposta lui Per il meme Non lo so questo Mi sono pensato Per forza È vero Può essere Esatto Ma fa leader No vabbè ovvio Capisco perché Fatalità capito Per il meme Per il meme Pure la natura Lo fa per il meme No chiedono Chiedono la fonte Lei basta cercare Cerchiamo un ragno Ragno delle banane Ragazzi non ci sono fonti qua Solo verità Dovete solo assorbire Questa è una cosa Che ho visto in un documentario Quindi ovviamente Non vi so dire Il link della fonte Ma se cerchi su google Vieni fuori Ragno delle banane Ho visto in un documentario Qua diciamo solo verità Basta La vera verità Come disse La vera verità Poi si sa perché abbiamo Un po' di animali Ma va bene così Credimi Sono una persona Sono Sono Malato di mente Certo Però nemmeno io Riuscirei a inventare Insomma una pianta Un ragno Che ti punge E muori Con un'erezione Dolo così All'interno delle banane Lo trovi solo all'interno Delle banane Posto del Viagra Cioè sta E lo usavi E poi via di undici Cambia discorso Beh giustamente Il record L'ha infranto Grazie al ragno Delle banane Andiamo oltre Andiamo oltre Delle banane Lo tieni Tipo nella teca Capito Devi salire Tipo a casa Fai tesoro Pizzichino Se vuoi proprio performare meglio Ti fai proprio la puntura Sulla grande Però devi sta attento Secondo me Perché Hai visto si dice Che la dose A fare il veleno Secondo me Se ti fai da un pizzichino Proprio Un minimo C'hai capito Quell'erezione Porco due Titanica Se esageri Mori E se uno Invece di maniarsi La banana Si anfila solo un bocca Fai un attimo Magari Deve avere il labrone così Tipo il brasiliano Capito Io mi ero distratto Mi sono trovato Sto cazzo Di cazzo Guarda Guarda Vai 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 Grazie Michele Forca trota Questo è un Grazie per i bit Clico Grazie Il classico Bella però A me piacciono Quelle pelosi Sì La carezza Di una compagna È tipo un cagnolino Gli metti il guinzaio Come un vero gentleman Le rende omaggio Bussando alla porta Sai che Visti così Sua natura Non si capisce Quanto sono grossi Secondo me È grossino Questo Oggi è tipo Cripicerbero Ma voi avete mai visto I video Di Brave Wilderness Con il grande Coyote Peterson No Questo è uno Che ha Sono dei tizi Che fanno Queste sorte Di documentari In giro Per il mondo Nelle poste selvaggi E hanno una rubrica Che è la Sting Zone È questo tizio Che si fa Pungere Dagli animali Con la puntura Il morso più doloroso In assoluto Madonna A un certo punto C'è questa puntata In cui prende Questa ortica Particolarmente Orticante E fa E adesso vediamo Cosa succede 3, 2, 1 Inizia Con sta foglia grossa Così A sfregarsi il braccio Vedi che dopo Due secondi Il braccio Diventa grossissimo Per vedere Qual è l'effetto Che fa Ma è un pazzo Vabbè hanno il team medico Nel caso in cui Ovvio Però Pazzo vero lui Si si pazzo Matto vero Porca droga Coyote Peterson Cerchiamo sto Coyote Peterson Sono curiosissimo Hello guys And Coyote Peterson Perché l'introduzione è questa Intanto un attimo di panico Se cerchi Coyote Peterson Stingzone Non potrebbe fare un effetto Tipo stress test Vediamo I più popolari Forse era la Bullet Wosp Qual è quello Che hai visto tu? Io li ho visti tutti La Bullet Ant Anche Bullet Ant Vediamo Sai che me può essere capitato Beh ma sono virali Anche su TikTok Esatto In un video suo Ma ricaricato Questo che casca per terra Inizia proprio A sentire tantissimo Dolore Aveva appunto Tipo un insetto E lui si faceva proprio punge Che lo tenevano Quelle mani Quell'insetto Si 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 Ma questa Ma questa Questa è una La parla lucidante Non so come Lui è investito Cascava per terra E si contorceva Dal dolore Che era la puntura Dei insetti Animali convictor Esatto Ma così poi Era un trucco Un controllabile Era cascato per terra Ma perché sono appassionato Ma poi Ma non lo sapevo Grazie per la sub C'è Assurdo perché Abbiamo fatto Sta roba del libro Poi ho detto Dai vieni in live Tanto stiamo insieme Facciamo quello che ci va Non ci siamo detti un cazzo Un libro sugli aracli Però mi piace Sta cosa Grazie 07 Mi piace un sacco Questa cosa un po' Attento che c'è il caricatore Vediamo un po' So curioso Ok 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 Paresemente da biologo Il lanciatore dei dinosauri Quindi Sembra tipo Alan Grant di Jurassic Park Sì È anche un po' Crocodile Dundee Cogliote Peterson Quindi vabbè Ha già la nostra attenzione Già solo per questo Il punto è che uno pensa che fa finta Ma poi quando gli inquadri il braccio In realtà c'è guarda il veleno nelle vene Oh my gosh È come È un po' È un po' È un po' Non so perché perché poi non ha senso Cioè come l'avevi messo tu Non aveva senso alcuna Per tre secondi Non neanche mezzo secondo ho fatto Stai parecchemente morendo povedino Formica di fuoco Che cos'è Questa qui era la formica proiettile No ma lo so che fa male Non sto dicendo che non sta soffrendo Ovviamente Sta davanti alla telecamera Eppure è un po' un attore Però è ovvio che stia soffrendo come un cane Sì Guarda Ma questa non è neanche la peggiore Ce n'è una In cui hanno dovuto estrargli il veleno Con una pompetta Perché sennò È l'attore No ma è ovvio Però nel senso che Penso che un po' C'è goda pure Ci sono persone Io ti dico Io non lo farei Sì sì Per dire capito A parte che lo fai Ovviamente perché c'è un canale enorme Il lavoro Ho capito però C'è una parafilia pure Secondo me è pure una parafilia Ma ragazzi Guardiamoci chiare Come chi fa Che ne so Gli sport estremi Sfide di questo tipo Sì Devi averci una propensione Devi puzzare un po' la vita Ma non Non te viene No no Sono come quelli che fanno jackass Bravo stavo per dire la stessa cosa Cioè una persona normale non lo fa Cioè una persona normale Non si pinza il buco del culo Con la pinza Capito Devi essere un bel pazzo Fondamentalmente Sì esatto Ah My whole arm is getting really tight Oh my gosh Mark put your arm out here Just tell them Feel my forearm Wow Dude it is like rock hard I think it's spasming up the muscle Now the toxin That comes out of the sting of a bulletin Is a panera toxin Which can cause you to hallucinate So I don't know how much venom Actually went into my arm All I know is that the stinger was Non ho 10 miliardi di formiche di questo tipo in giro ragazzi Sì Tu sì Non mi possono ucciderti tutti No magari non qua in Italia Però guarda questa è grossina però come formica È una bestia I think my neck is having a muscle spasm too My whole muscle structure is like Gli è passato sul collo addirittura È perché è una tossina paralizzante Ok That's not good Let's keep an eye on that My neck is like stiffening up My entire arm Feels like it's having a spasm right now È grossamente calabrone Ok No it's worse It's coming in waves of pain now Ah my guy It is Hold on I'm super lightheaded Like super lightheaded Stai modificato È perché ti dà le allucinazioni Sì Sono come quelli che leccano i rospi È presente È affatto fragile Quanto contenuto ci stai a dare Secondo me per mesi vedremo Sto di Ok I'm gonna try to stay composed I'm gonna have to Non so affascinare Ma guarda che Allora Io Non sono Non sono esperto Però comunque A me queste curiosità Sugli animali Sugli insetti Mi diverto Quindi ogni tanto passo le ore A cercare Qual era quell'altro peggiore Che dicevi te? Sempre di lui? Allora dunque Non mi ricordo Era quello Vedi sei tra questi Eh non mi ricordo Forse era Il calabrone Forse Non mi ricordo Se era yellow jacket C'era anche No No sopra È così Executioner Wasp Dio santo Donna pure da qui La vespe esecutrice No zi Io c'ho proprio il terrore Qua Roma Voi avete L'invasione di vespe orientali Le vespe fanno abbastanza paura Eh ma le orientali Sono mostruose Sono così eh Non so qualcosa Capita dal lago Che una vespe orientale Penso se c'era un arveare Cioè in seguito Io Io seguo un tizio Io seguo un tizio Su tiktok Non mi ricordo bene Come si chiama Perché io su tiktok Vedo le persone che arrivano Ma non mi ricordo mai i nomi Eh che lui Praticamente Di professione Fa il disinfestatore Eh Per api Vespe Però lui è di quelli Che non le uccide Cioè le Ricolloca gli arveari E fa tutti i video Sulle vespe orientali Se fa vedere Che fanno questi nidi Che sono anche bellissimi Da vedere Però dio buono Sono spaventose Sono veramente spaventose Da vedere No le vespe Le vespe Fanno paura pure a me In effetti Guarda che schifo È un cucciolo Che è Catroia Io so Comunque Sono fighi Sto video Che dico in chat Che sono Bannabili Non sono Bannabili Sono su No Bannabili di che Ma non è Bannabili Non è vero Non è vero Ma dov'è Oh Un pochino più Detto Ah è qua Uuuh Si è proprio Visto il Pungiglione Eh si Oh 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 My gosh Che rapidità Oh That's really bad Really quick Davvero veloce Infatti Vedi Pensava che ho visto Questo Sconfiggere Delle mie paure Infatti Non posso immaginare Secondo me È voluta Come cosa È tipo I Vrestel Che si tagliano È un po' come Vin Diesel Su Riddick Si Esatto Non lo ricordate È grossa È gigantesca Ma quanto cazzo È grossa È grossa Porca troia Che paura È enorme È enorme Questa se te la trovi La finestra La fai entrare Diciamo Venga idraulico Porco tu Facci vedere Mazza qualche foro Eh si Qua gli è rimasto Pugiglione Pugiglione È così Eh si È gigantesca E non muore Senza Pugiglione No è una vespa Sono le api Che muoiono Senza Pugiglione Le vespe no A me fa ridere Che nessuno Lo vado ad aiutare Beh ovvio Perché se no Finisce il contenuto Però Ti immagino il team Spaventatissimo Ogni volta potrebbe essere l'ultimo Secondo me la prima volta L'hanno aiutato Lui si è incazzato Ma porca montana Tutto è stato l'olore Per niente Hanno usato questo strumento Che è una campanolina Di plastica Con una pompetta Però non mi ricordo Quale è il video Hanno dovuto Togliere un po' di veleno Perché era troppo Quindi hanno dovuto Fare pressione E toglierlo dalla puntura Porca troia Mamma mia Allora me l'hanno detto Vedere il primo Tra i popolari Poi cambiamo Sì sì Allora questo Dicono che è il peggiore Quale è quello più grave Cow killer Ah la cow killer Sì anche questo È bello pesante Che cazzo fa Ammazza Sì Quello subito dopo Lo hai deletto Che cazzo è Ammazza Bestiame Che cazzo è Ammazza il bestiame Che schifo è Bloodworms È tipo una specie Di sangue Il verme del sangue Addio mio Madonna sangue Il verme del sangue Perché poi si riempie Il sangue subito Succhia al sangue Sì È una sanguisuga Non è proprio Perché le sanguisuga Sono già diverse Anche quelle sono degli animali Veramente disgustosi È abbastanza La sanguisuga La mangusta Come si chiama La mangusta La mangusta no È un altro nome Sto confuso Vediamo un po' Tipo una sanguisuga Però è un po' più grosso Sto curioso In italiano C'è un altro Grazie Asia No, non sono mai pronto Uno Due La cow killer L'assassina di mucca Ma questo è fuori Oddio che sensazione È lungo Madonna regà Ma quella è la cura Con cui la vuole intrappolare Cioè capito Ma è Perché è pericoloso Regà È stranissimo Madonna È stranissimo Perché lo vuoi comunque vedere Eh non vorresti Non vorresti ma devi È l'incidente stradale Bravo Porca troia E tu non vorresti guardare Ma c'è qualcosa dentro Che ti dice ma sì Oddio regà Vediamo Ma infatti c'è un team di dottori Eh sì Che fanno in sicurezza ovviamente Non fate la casa amici Ah mi sa che non l'appunto però Così Ah vedi c'è l'adrenalina proprio a fianco Ah no l'appunto l'appunto Sì Perché pensavo che volesse Fattivo round 2 Capito Questa è veramente pericolosa Questa è pericolosissima Però vedi Vedi Che cazzo vuole fa Che cazzo vuole fa Oh my gosh guys This is super bad Deve fa una puntura Sta resiste Ah vuole tenere botta Dice tu Ah Tu Sai che qua sito Mi pare che perché Allora Sa decide Facciamo una puntura Non me la faccio Allora Tuttura Non funziona così Ok Tuttura Ok 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 Tuttura Non funziona così Ok Tuttura Cazzo vuole fare Un'altra puntura Eversa Man I could feel It was like Um You could feel Go all the way The skin All the way In I could feel It inserted into my arm You're going to be all right Ok And now they say That the sting of the velvet ant Will last for about 30 minutes And I can tell you guys right now This is the worst sting I've ever taken There's no question about it C'è cazzo dice che lo dice ogni volta Che si forse Ovviamente Vabbè perché poi le scordi il loro È un posto ogni volta Quindi Animali sempre più pericolosi Over And over Sì Sì questa top C'è un po' di dramatizzazione Sicuramente Però Però Porca droga C'è questa ti fa i lividi Madonna Madonna Sting There's the stinger insertion point Right there And it is swollen And it is very tender And you can see how red Mamma mia Assurdo Porca droga Mamma mia Per un milione di euro Io penso Come cazzo fai A parte che non ci riuscirei Perché svengo prima Già che mi avvicini svengo Ci avrei troppo paura Lo ti fa sul corpo svenuto Non c'è neanche C'è un limite Secondo me I soldi Per quanto mi riguarda Non comprano tutto Ho appena capito Come vendicami De tutti i scherzi De Gialluca Che me esce Mi fa sartare Le vai a prendere una E li era liberi Mentre in bagno Se non muoro io Poi muori tu Lì Un'api legata Su una cordicella Che rischia Ma regà Vi posso dire Ho appena avuto Un'idea geniale Posso diventare Anch'io Uno youtuber Da miliardi di visual Cosa fai? Fare lo stesso format Turbarglielo Ma con un braccio finto Ah Beh Guarda che Secondo me Se te lo fai fare uno Fatto bene Guarda che Li trovi Iperrealistici Sì però Secondo me si vede Perché se non lo muovi bene Però tu dici Paralizzato dal dolore No Mi ha fatto venire Il dubbio che sia finto Sai No 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 Si vedono le vene Che si gonfie Non credo Lo fai iperrealistico E poi lo monti bene Col tuo braccio vero Lo monti bene Sì Ah beh è vero Sì Però adesso che l'hai detto Secondo me Il braccio Ma faccio un canale americano Il braccio finto È soltanto quando fa la puntura Nel dettaglio Esatto E poi dopo Te fai col backup Esatto Ma sai che non è male Ma l'abbiamo detto però Con l'intelligenza artificiale Cioè Eh beh La puntura come la fa vedere La puntura sul braccio finto E poi Sì dopo Fa il make-up Ah gruppi dopo Sì Spottare Vabbè è difficile Beh se lo monti bene Vabbè ovviamente Sto cazzeggiando È difficile perché poi qua Comunque c'hai tutti i dettagli Chiaramente È solo che tu sei super tatuato È difficile Perché devi riprodurre Gli stessi tatuaggi Vabbè prendi Un artista Esatto prendi capito Make-up No no c'è Chi è questo? Come chi è? Eh non vedo le... Come chi è? Devi valutare la recitazione Sì Purtroppo regà Cristiano Dalterio Nicola Scheggi Italiano È caduto un po' in malura Eh vabbè Nostro amico Purtroppo È diventato un clochard Come vedete Ah ecco Ma sono io Allora C'è un giugno Ma c'è Vabbè Vabbè Mi ha sicurezza Guarda Cos'è che sto vedendo? Con la musichetta De striscia De scherzi a parte De scherzi a parte Ma non c'è qualcosa lì Un topino qualcosa Un topino No 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 Ciao 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 Mi stai 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 Ma questo ha sconvolto Sì Mi ha truccato da Bella Lugosi In Dracula Non sembra lui infatti Non è emotiva Tutto bianco in viso Ma infatti non sembra lui Con le occhiaie Sembra lui ma le sementi Io quando l'ho visto ho detto Ma chi è? Oppure davvero è diventato un clochard Ah questo è un mito Sì Questo è un king Vediamo Adesso ti introdurremo a questo personaggio meraviglioso Si chiama Rex Papi Non ti dico nulla Non ti dico nulla Voglio una tua valutazione Vai vai E' normale non capire la prima Però piano ci arriverai Guarda Anche perché è particolare Questa è una cosa molto rara Che succede adesso Perché è famoso Quindi non conta Ok Ti faccio vedere un altro paio di contenuti Grazie Gordon Se caricassi Magari anche Instagram Ci farebbe un bel piacere 16 mesi Dai Cosa combini Meta Cosa combini Sempre Chi? Meta Ah Dai con sti sub Che voglio vedere bei numeroni Qua c'è gente che è abbonata da 40-50 mesi Dai Ma che succede? A 10.000 sub spoglio Gianluca Greve Mi spoglio io proprio No raga si è impallato tutto A posto Guarda Mi spoglio tutto Ma non c'è riapri ultime schede? No occhio che se vede Molta tutta Riappi Io a Natale è bellissimo Riappi l'ultima finestra Eccole Ci ho preso Funziona Ah guardate qua ragazzi Guardate un po' Mi sblocco un ricordo Megan Gale Ciao a tutti Sono Megan Gale Vi ricordate di me? Eh sì Porco due Vorrei fare a Vodopone Italia Le congratulazioni Per questi fantastici vent'anni In particolare A quel gruppo di persone Che con Omnitel Hanno reso possibile Tutto questo Devo dire sinceramente È stato un onore Un gran piacere Di essere una part Di questa storia Grazie Grazie Però strano che infatti Mad Max è un prodotto Molto misto Cioè conosciuto da tutti Non è una cosa solo italiana No anzi Famosa quindi in Italia Tanto in Australia Lei comunque è amica Con George Miller Per cui ci sta Ah ok Non ti preoccupare Non me lo so Ho dimenticato Che sto ricaricando Tutte le schede Vabbè Lo apro da qua Dai Poi lo vediamo In maniera più seria Eccolo Ce la faremo Eh ragazzi Ce la faremo Con questo mitico Instagram Niente Impossibile Impossibile Rex Papi Impossibile Rex Papi Regà è così È proprio il contenuto Di Rex Papi Che non va Dice che ha creato Un problema Sì ha creato E vabbè Impossibile aggiornare Eh regà il Mac questo Non è colpa nostra Ma guarda È colpa del Mac Si è un po' impallata La situazione Impallato il Mac Questo è importante Non entra Cos'è? What's your favorite animal? A goat What noise does a goat make? Che faccio a essere io il vampiro? Ah 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 Se l'altra persona che pensi che stiamo Bella questa Non può essere il vampiro originale Che cazzo dici Livio? Questo è bello però Questo è bellissimo Che taglio Non me l'aspettavo Era anche io quando l'ho visto Mi ha stunnato Dai ce la faremo Ce la faremo Secondo me È proprio Rex Papi Che non carica Rex Papi Ha una potenza La radio ha una potenza Ah hanno bannato Rex Papi Crepe Ma così sul momento Cioè l'hanno bannato Mentre guardavamo il contenuto Mi sembra strano Sì È giusto Che possa farlo Ed è giusto Per noi No leva Leva il duce No è Ivan Leva il duce Grazie mille È Ivan Madonna scusate Mi hai preso un colpo Raga pensavo È Ivan Griego Grazie Aldo No 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 Chi è Miss Flame 89 Che grande Che Queen Ha pelata Ha pelata fiera Sono partiti sub Grazie Grazie Che possa farlo Ed è giusto per noi Come occidente Permettere all'Ucraina Di difendersi E di riuscire a fare Questo percorso Io sono qui È il raduno Che comizio era È il raduno Allora Tu lo sai che Ivan Ha aperto un movimento Sì Ho saputo qualcosa Biselli in cammino Si chiama No ok Questo me l'ho perso Biselli in cammino Me l'ho perso Per i diritti LGBT E poi pro Ucraina Ma questa è una cosa decente Sì Cioè lui Bazzica in politica Da tempo Sarà pure candidato Con lo buono Sì vabbè A tutti i giornalisti italiani Ai presunti Professori Analisti Che ogni giorno In televisione Sui social E sui giornali Vanno a raccontare Di quanto l'occidente Sia castivo Di quanto l'occidente Sia ipocrita Del nazismo Presunto tale Che ci sta in Ucraina Voglio dirvi Soltanto Che forse Hanno ricevuto Parecchi rubli Per dire determinate cose Greve Probabile Sono dei menzuti Io ho scelto Da che parte stare Sceglietelo anche voi Perché il motto Né con Putin Né con la Nato Fa schifo Dobbiamo scegliere Da che parte stare Anche la politica Deve farlo Giorgia Meloni Oggi è a Kiev Ha fatto la sua scelta E allora lo dica Anche a quel cane Di Salvini A quel cane Di Salvini Oh madonna santa E dice anche Di non averlo rinnovato Mentono Pudoratamente Infatti ha scritto Cazzato vero Ha scritto Spero in una bella Querela Da parte De Salvini La esibirei sul curriculum Orgogliosamente L'ho visto prima Quel messaggio Quindi è di oggi Questo di qualche giorno fa Beh comunque recentissimo Si recentissimo E anche questo Recente A propaganda Ivan che è finito Su tutti i TG nazionali Ma come? Si Guarda Giornalista d'assalto Guarda che roba Perché che ha fatto? Ha fatto una domanda Guarda guarda Bello Bello un cattivito Mi faccia vedere L'accordo rinnovato Ve lo faccia vedere Ma dove Tacito accordo Sono invenzioni E bufale Come quella Del metropoli La gra... Può di sì Ride tipo Capito Tipo Liccardo Non rispondi Devi rispondere Guarda che taglio Bellissimo Sì Ho per i porti a testare L'accordo rinnovato Ve lo faccia vedere Ma dove Tacito accordo Sono invenzioni E bufale Come quella Del metropoli La gra... Può di sì Ma però dai Lo vedo bello D'assalto No no ma Ioanone Farzumo Rispondi Devi rispondere Questo cos'è? Ah ok Femministe si riuniscono Per protestare Una protesta? Ok Oh oh Che è un parti del cerbero Cos'è? Non sto capendo Il... Sembrano parti del cerbero Cosa consiste Romero Romero Che sembra roba di teatro Che sembra roba di teatro Insomma è vero Ti ricordi? È vero sì Che iniziamo la... Vediamo se trovo la scena Messo di sì Comunque È classico Che metto scream Ma allora Il punto è La protesta È anche sensata Poi amore di Dio Ma non... Sembra una performance Anni 80 Non avevo capito la scena Sì Sì È questa È questa Quando stanno tutte così È inizio È inizio sta scena No È la sua fine È la sua fine Sì Seconda metà del film È poco prima che succeda quella cosa lì Quindi Sono tutte donne Rappresenta una cosa simile Infatti c'è un azzeccato Questa è della chat Ragazzi l'unica scheda che non carica è quella di Rex Papi Ma questo è complotto L'uomo hanno bannato hanno scritto È una cosa allucinante L'uomo hanno bannato proprio capito Cioè regà Non possiamo mandare a casa Victor senza fargli vedere Rex Papi Eh lo so Cazzo influencers? No No influencer Ah ok ciao Video from Where from Turkey Turkey Ok I love Turkey I don't know why ma It's a great place A good place Now I love Turkey Thank you What is your plan for tonight? Turkey We're gonna go to the hotel Ah hotel Not enjoy night Milans We have plans for another day Futurmotte Lo conosci? Ah ho capito Sì sì ho capito È un berkingino Futurmotte È un berkingino No regà Io non ce la posso fare Non molli? Non mollo regà Guardate Cioè questo è Instagram Questo lo carica Bojaghim Ah regà Guardate Ma è bannato davvero Ma che l'ha bannato Però adesso Allora Ultimo tentativo Lo apriamo da Chrome Eh bravo Lo stavo a diva Sì però Mi sa che non ho l'accesso Qui Fai tutto da capo Santo Dio Ma cosa Gucci boy Che vuol dire Fai tutto da capo La vita Intendi Vedi che stanno a scrivere Pure in chat Che è bannato Non è bannato È bannato È bannato Lo so Mi sembra strano Stanno a scrivere tutti In chat No 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 La cazzetta Cazzo Ma che cacci tua Mi sono cagato Io mi sono cagato Dentro Internamente Mi sono cagato Dentro Non sotto Ma pure in chat Qualcuno si è cagato Sotto Aspetta di vedere La clip Mi sono stunnato Perché ce l'avevo Addosso Io mi stavo a guardare Un moderatore Mandi la clip Io mi stavo a guardare A me Capito in quel momento Mi siete cagati sotto Segnano il canale Ho dato un pugno Al monitor No Ve prego Un mod Mandi la clip Ve prego Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ha prankato Un po' tutti Erchidano Ho aperto da Chrome Così ti impari Giallo Ho aperto da Chrome Sei pronto Sei pronto? Sì io guardo Sei pronto? Vedo subito Devo andare a quelli più vecchi Però perché E' diventato troppo famoso Se lo fa vedere proprio E' che non riesco a capire Cosa fa Lo capirai Vediamo un po' Prova da una bet check Ma sono una persona Che non conosce? Giustamente Ma in effetti Non puoi neanche biasimarle Do woman fear papi Tra l'altro Perché tutte le donne che lo rifiuti Con la clip se volete Ma mi piace LL quando annuisce Mi giuro Ti fa di visitare Veramente il mondo Con lui Sì Tutti i live Ho fatto bene Ma voi ve lo ricordate Stavano a Napoli Maxime Buddy Oddio qual'era? C'è cala 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 In you Non ti ricordo Personaggio incredibile Flashback Era quello Quello Com'è che si chiamava? Baby baby Mi baby Maxime Buddy Scritto Buddy Sì mi ricordo qualcosa Non so se è bannabile Ma non credo Addirittura No non mi pare Maxim Scritto Maxim Scritto B A D D Grazie Peppe Maxime Buddy B D I O con la Y Non finale Sì guarda Vedi che stanno a scrivere pure in chat Che è bannato Non è bannato È bannato È bannato Lo so Mi sembra strano Stanno a scrivere tutti in chat No 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 La cazzetta Mi è cagato Quali sono quelli veri Secondo me Sai che non ho capito Non ho capito Era questo qua Maxime Buddy Baby però Perché Eh sì È vecchissimo Ecco quello lì Il primo Sì C'era Rion King 11 milioni Sì Che poi Vedete quello che fa con le sopracciglia adesso Che fa tipo È il meme palese Ci hanno fatto poi i meme Che roba Si era vecchissimo 12 anni fa Una roba Però è talmente vecchia Che magari molti non lo conoscono E quindi È vero È vero È vero Un altro vecchio Un altro vecchio Un altro vecchio ma immortale Ragazzi è ovviamente il nostro amico Zeb89 Quale gioco? Non ho idea Ma ci insegna Smettere Ci insegna Come si può smettere Di fumare Ah dai che ne ho bisogno Allora Allora Io vorrei fare un discorso Perché il discorso che devo fare ora È più importante Di questo gioco Classic Zeb Esatto Di qualsiasi cosa Fumare è un Allora Vi do un motivo Avete presente quei video Dieci motivi validi per non fumare No Io vi do un motivo valido Però E voi pensate Ah il cancro No No Aspetta Aspetta C'è un motivo ancora più grave E vi dovrebbe bastare Anche solo questo motivo Per non fumare mai più In vita vostra Cioè questo motivo È il motivo proprio che Se lo sapete Voi non potete fumare più Basta Cioè la soluzione Io Io aprirei un centro No di recupero Di insomma È Come cazzo si chiamano Lì per far smettere La gente di fumare E farei Cioè uno entra nella stanza Gli dico questa cosa Il problema è risolto Lui non fuma più Perché basta dire Se tu compri le cigarene Dai soldi allo Stato Ecco Già quello Vai Fatto Già quello Tra tutti i motivi Esatto E fu così che Scappò a Malta Esatto Coerente Geniale Geniale Perché invece se bevi Tipo una bottiglia di cognac Non dai soldi Allo Stato No in quel caso no Lo fumare Io non fumerei mai Anche solo per quello Anche solo per quello Guarda Cioè quindi ti basta sapere Io ho smesso così Regà Io ho smesso così Sì certo Non vuole più ingrassare il governo Bravo Aiuto Esatto Esatto Vale pure per lì Vai me Però sì Il tabacco C'ha le tasse più alte Sigarette Alcone È top Ragazzi Prosperità Ora tutti i residenti Ora tutti i residenti in Italia Hanno la possibilità di investire 240 euro Per guadagnare costantemente fino a 40.000 euro al mese Oggi questo è diventato realtà grazie a un nuovo progetto Presentato dal famoso Piero Ferrari e dal capo della Banca d'Italia Grande il Fazio Dopo il successo del lancio del programma È stato deciso di renderlo accessibile a tutti i residenti in Italia Pure il Fazio Piero Ferrari Puoi dirci cosa esattamente offre il tuo progetto E perché lo consigli a chi Progetto Però ragazzi posso dire una cosa Al di là del fatto che hai detto progetto Sì È credibile No secondo me Io ti giuro Io non mi ingannano Perché sbattono gli occhi che sono sbarellati Cioè guarda Però manca poco Sì sì Manca molto poco No no ok Però tra un po' Ma adesso cioè è vero È migliorato tanto Lo so però se tu becchi che ne so Ho un sessantenne Sì in anziani Ah ok Ma anche perché io Ma io poi faccio sempre un discorso No? Se questi contenuti proliferano Ah certo certo Significa che funzionano Quello sì Perché se no non li farebbero no? Io pure dico Cazzo ma come fai? Il video non è Il video La base è vera Non quello che dice Certo certo ovvio Questo come lo vedete regà? Ciao amici Se non vincerete il jackpot in questa app Entro un giorno Personalmente vi darò duemila euro Questo penso sia illegale Proprio tanto No ma non è lui Pure questo Ma poi Ma anche pure Fazio è illegale Questi sono illegalisti Ma poi Mi pare rite Se non fate jackpot Vi do duemila euro a testa Cioè chiunque Tutti fanno fare Lui Lui Personalmente Ma sai cos'è il fatto? Il fatto che È vero che uno dice Pensa i vecchi Va bene Però se lo vedi Si capisce che non è Ehi ragazzi Se non fate jackpot Cioè Poi questi ne manchi i becchi Io mi immagino uno Un canotto Tutto sudato Dentro un banglatino Arpicche e paghiaggettoni Capito? Come i becchi questi No no è vero Avranno pure dei metodi Per non essere beccati Perché mostri così tanto il fianco Che se poco poco o vai a casa tua sai che te combinano te rovinano ma su TikTok mi compaiono delle pubblicità di programmi per fare le canzoni con la propria voce con l'IA sì con le reaction tipo di blur sì sì e non penso che quella cosa sia colore no zero zero sì sì un manuxo anche tipo tipo pop ti rendi conto di quanto è bella la tua voce ma tu non puoi fare una cosa del genere usando l'immagine di una persona ma l'hanno fatto per un sacco di siti di casino col gabrone cozzano sì 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 madonna ho visto di peso ma non si può dire in time te lo dico ok no però però è robe brutte cioè sono delle robe grazie Sanji pubblicità dei livelli veramente veramente incredibile manifestazione all'esterno della eh non so cazzo stava fate qualcosa per cambiare ragazzi e ascoltate Mick Cosentino tra seri giovani non hanno voglia di lavorare appena assunto in un'azienda che vende caffè nel mio piccolo paese stipendio sulla carta 1200 euro dovevo ridarne il 400 al titolare questo per tre anni orari infiniti uscivo di casa alle 7 e rientravo alle 22 ferie inesistenti e dovevo combattere per ottenere una settimana di vacanza all'anno maltrattamenti sul posto di lavoro verbali e anche denigratori ma che senso ma perché piace al trono del muori ma l'ha messo per sbaglio il laico per il meme no secondo me bravo bravo ci difendi i lavoratori però non ha manco capito mi sono ritrovato a fare il tecnico di riparazione il fattorino giardiniere il magazziniere il contabile il macellaio altra sua attività e chi più era più ne metta io ho una pazienza infinita ma alla fine non ci ho più visto ho fatto in modo che mi licenziasse lui risultato a breve verserò in causa perché non mi ha pagato tredicesima quattordicesime tfr dimenticavo alla fine di quest'anno mi hanno adevitato le spese di riparazione del furgone aziendale i caffè che in 5 anni prendevo la mattina in azienda e le ferie che sulla carta erano in negativo di un mese ora questo è un messaggio che mi ha inviato un ragazzo in chat per rimanere nell'anonimato per poi concludere con ti seguo da un bel po e ci tengo che usi il mio esempio per far capire alle persone che la cosa migliore è mettersi in proprio esatto cazzo anziché farvi trattare come degli schiavi per prendere un misero stipendio da 800 euro fate qualcosa per posso dire una cosa però al di là di quel esatto cazzo io voglio chiedere a Marco e anche a Victor che Marco regista Victor è un analista mi spiegate il senso di questo cambio di inquadratura nessuno sì sì per far vedere che c'è del dinamismo ma poi posso dire una roba lo fanno tutti tutti questi tizi qua hanno in comune un punto fondamentale non capisci mai esattamente che cazzo fanno io vuoi avviare il tuo business digitale cosa cioè ma anche menassero davanti alla videocamera e mettere in rete un business digitale che cosa fanno queste persone io non capisco ti giuro è vero solitamente sono quelli che usano le parole creare delle sinergie grazie grazie mille chi è Fuflix grazie Germanone abbiamo parlato di Miccosentino e appare Germano ha fatto parecchie live su questo personaggio recuperate ci sono bei contenuti ma è vero è vero un venditore digitale cosa ma il meglio è vuoi guadagnare col tuo e-commerce cosa cazzo vendete cosa vendono falli di gomma viola almeno dimmi qualcosa io non ho mai tutti dicono io sto guadagnando col mio e-commerce bene è una cosa bellissima mi dici cosa vendi su questo e-commerce perché io non ho mai cioè quelli che parlano di e-commerce non ti dicono mai cosa vendono perché poi e-commerce può essere qualunque cosa certo cioè ci sono tantissime forme di e-commerce certo vendono sogni sì vendono vendono il modo per fare corsi solide realtà no vendono il modo per fare corsi ad altri che diventano venditori di corsi ma anche sta roba dei corsi e io posso dire che io non ho mai creduto molto nella questione corsi ho conosciuto persone che facciano corsi alcuni erano anche validi per l'amor di Dio però è proprio una roba che non cioè non lo so è diventato ce ne sono talmente tanti ormai in giro che come fai a capire qual è perché magari ci sono dei corsi che sono utili ma qual è come fai a ci vorrebbe un corso che ti aiuti a distinguere i corsi buoni da quelli che si è vero eh ma sì Germano a voglia lo faremo assolutamente il Valori Gate Valori un bel personaggio interessante Luca Valori pure Dario ogni tanto fa però fa un amore da ridere sì sì è simpatico devo dire Valori è simpatico almeno Dario mi ha fatto scoprire un personaggio incredibile che è Diamond Diamond oddio qual è no raga è questo tizio che fa i video tipo in vestaglia ed è tipo un gemmologo che commercia in generale ah sì sì quello Pier cos'è che era Pier Federico tipo una nuova del genere ma Pier Claudio Pier Claudio ne stanno nascendo molti secondo me però lui è ironico non è un fuffone no no è uno che scherza sì sì però ne stanno nascendo molti che sono a via de mezzo cioè sono un po' simil guru fuffaroli però si prendono anche un po' in giro da soli sì ok ne ho visti un po' in vari settori e quindi non sai mai come prenderli perché alcuni sono proprio parodistici e basta altri magari ti vendono qualcosa però non si prendono sul serio e si nescono proprio a balanghe ma per lui fa ridere tipo un alisco bravo un alisco una via de mezzo perché è un fuffarolo però è talmente imbarazzante che dici ma boh avrai preso qualcuno questo boh red e snob per me è la definizione proprio del cringe o un alisco o un alisco o un alisco io ti giuro lui si mamma mia no veramente però lui riusciva a mantenere la mia soglia d'attenzione per 15 secondi perché comunque furbescamente metteva i piedini di quella bella fregna lì sai che sai che io invece ho proprio quando ho visto che usava la tizia ho detto no io scorrevo e dicevo no perché questo è questo è un trappolone certo ma tra l'altro tra l'altro noi abbiamo anche visto qua al cerbero che lei ci hanno perduto il personaggio che anche lei non mi sembra proprio il massimo della trasparenza non lo so no però lei l'ha cercato di sputtanare l'ha sputtanato nel senso che poi abbiamo visto delle clip molto divertenti che era quella un alisco è un truffatore quella me la ricordo i suoi microfoni sono finti come fa un microfono ad essere finto penso che intendesse che metteva la marca ma in realtà non era di quella marca no secondo me che metteva davanti un finto tipo pot ma in realtà era un audio che non era l'audio di quel microfono io poi io voglio far notare come le cose come le cose si ripetono una volta tutti i ricconi andavano in Libano negli anni 50 60 adesso è Dubai quindi è un ciclo infinito che si ripete io poi ti giuro quelli che dicono vado a vivere a Dubai a me dà l'idea di un posto in cui ti fai due coglioni così a parte ultimamente si stanno a spostare tutti però per fare contenuti per creare contenuti in Thailandia ne stavamo a parlare eh sì è vero però non so perché c'è una pressione fiscale diversa no però vanno lì tipo in vacanza o fa contenuti non fiscalmente allora deve essere un posto splendido comunque Germano ci consiglia l'ultimo video dei guidi sul server sto curioso siamo seri dobbiamo parlare mi piacciono questi video vediamo vediamo cosa fa mettiamo un 1.25 sulla fiducia vediamo un po' in principio era il nulla una distesa nera sospesa nell'infinito e così fu per infinito tempo finché l'universo venne creato e da qui per miliardi di anni gli atomi si aggregarono creando le cose del mondo dobbiamo ballare ferma le rocce le gocce di pioggia i funghi le unghie degli elefanti la pelle degli acari i petali del tarassaco il buco del culo degli acari le piadine la cacca i capelli di morga quei due sul server fermati qui questi due sono interessanti vero vero mi ricordano il buco del culo degli acari uguali uguali si scherza ovviamente noi non siamo così importanti l'universo andrebbe avanti anche senza di noi e ragazzi abbiamo passato tutto il 2023 a pensarci a immaginare un universo senza QBSS si dividono sarebbe davvero la stessa cosa beh senza di noi chi parlerebbe di videogiochi cacando il cazzo a tutto e a tutti senza di noi con chi litigherebbe Sonic e chi porterebbe un playthrough intero di Valdo ma soprattutto come farebbero poi gli acari a cagare ma parlando seriamente una volta tanto siamo stati in crisi e forse i nostri iscritti più affezionati se ne sono accorti in effetti è tanto tempo che non esce una nuova canzone abbiamo messo in stand by diversi progetti speciali che state aspettando eppure il primo canale è rimasto immobile per mesi prima che ci decidessimo ci forzassimo a riprendere a pubblicare con costanza alla fine del 2023 ci faceva schifo vederlo lì a prendere polvere come una playstation portal qualsiasi anche perché è il canale che ha dato il via a tutto il nostro ecosistema e nonostante i contenuti siano tornati e siano apprezzati c'è fate caso il poro Reddits è andato proprio in down totale dopo l'intervista al numero 2 della Big Luke International non credo non è quella la motivazione però in realtà a livello di credibilità non so scherzare ha preso una bella botta però posso dire che io su quello non sono molto d'accordo perché voglio dire tu puoi anche fare l'intervista puoi cercare di capire il fenomeno perché comunque il modo in cui l'ha fatto ovviamente ma l'ha incensato perché non l'ho vista io l'avevo vista ti dico secondo me il discorso è molto semplicemente che ha fatto un contenuto che esula molto bravo però lui fa sì però lui praticamente non fa quasi mai interviste è vero sembrava una dv poi non credo sia stato pagato credo no 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 l'ha incensato durante le interviste ma più che incensato gli dava corda ecco erano tipo delle domande che sembravano le domande stupide per cioè i commenti stupidi per dare degli assist e farlo rispondere in maniera intelligente io avevo visto più che il video in sale è una reaction bravo perché quei video lì da soli non li guardo perché non mi interessa l'argomento ma il fatto qual è diciamo che è stato un mix dei fattori secondo me e lui ha onestamente dico ha perso molta credibilità però non mi ha dato quell'impressione sai questo non lo so però io dall'esterno un po' ho percepito questo ma perché per varie motivazioni cioè che intanto era un contenuto come dici tu che esulava dal suo cioè però su un canale in cui parla spesso di quella roba sì però proprio interviste di quel tipo un po' alla fazio diciamo no un po' zerbinose non le ha mai fatte a sto livello no e sembrava più una dv in più le domande un po' così ma non solo il problema secondo me non è tanto l'intervista come dici te è stato più il dopo sì cioè il dopo lui praticamente ha reagito malissimo alle critiche ha reagito malissimo alle reaction ha provato a buttaggiù se non sbaglio pure a Germano la reaction a Dario Moccia nei commenti un delirio mi sa che è chiusato la sezione dei commenti cioè come aveva poi risposto alle critiche sì e molti se la sono legata al dito poi ovviamente non sto dicendo però secondo me non sono cose collegate era una battuta adesso più che altro adesso vorrei capire cosa vorrei capire dove va era una battuta però ripeto a livello diciamo secondo me di credibilità di credibilità presso il pubblico perché comunque lui era sempre stato abbastanza stimato uno magari dice non vedo più i contenuti però a lui lo rispetta sai cos'è il discorso non è che è un contenuto che te può distrugge il discorso è che quelli sono personaggi che non sono appunto non è che più che truffa è fuffa secondo me quella io in generale non sono d'accordo no no però non sono d'accordo a dare spazio a questo tipo di persone perché è un tipo di contenuto quello che fa Big Luca che io proprio cioè io tipo se su TikTok viene fuori il mio cor alla R di corso ho già scorso non me ne frega un cazzo ne ha dei corsi no no ma ripeto io poi sono stato ad esempio il primo anche a ammettere che pure noi quando abbiamo intervistato Big Luca potevamo fare decisamente del meglio abbiamo fatto degli errori pure noi in quella live beh buona fede ma infatti siamo presi delle critiche e ce sta per carità abbiamo ammesso subito ce sta però sai è stato detto che è un po' master of intortament sì ma poi ripeto alla fine noi facciamo sempre confronti cioè è il nostro capito uno può andare a peggio ma sì va bene era una cosa un po' particolare comunque vediamo un po' vediamo cosa però può essere non lo so no greve se i contenuti siano tornati e siano apprezzatissimi questi sono i guadagni a fronte di giorni e giorni di documentazione scrittura riprese e montaggio guadagni ai quali vanno falciate via le tasse e la percentuale del nostro network insomma raga perché se pagano le tasse che è il network ancora lui ma pure noi ci sono i network ma ancora esistono i network sì ma uno fa da sé questi non vanno ar dunque c'è ragione mister dunque piatevi da soli ma non lo faremo primo perché non siamo il tipo di youtuber che dà la colpa all'utenza e secondo perché voi ci siete pochi cazzi ci siete sempre non mancano le views i commenti il feedback i consigli e l'rpm che basta quando facciamo delle cagate atomiche e anche quando facciamo le cose belle il problema raga non siete voi voi siete il motivo per cui abbiamo tirato avanti nonostante tutto stia cambiando in peggio ormai da tre anni tanto per dire è la piattaforma stessa che ci sta mettendo i bastoni tra le ruote dalla dipocalipsi in poi è stato un massacro sapete la dipocalips quando tutti se ne sono scappati da youtube per andare su twitch perché qui non si guadagnava più una sega ecco da lì in poi l'algoritmo è diventato un nemico un tiranno roba di serie A roba di serie Z roba che va in tendenza e roba che va oscurata e poi è arrivato anche TikTok che di per sé non fa male a nessuno a parte alla soglia dell'attenzione dell'intero pianeta terra ma comunque fa danni indirettamente perché youtube ha messo gli occhi sul fenomeno ha detto ue ue bello è bello il tuo tiktok e quindi la piattaforma adesso spinge soltanto chi fa gli shorts perché youtube deve fare la tiktok di wish piuttosto che fare quello per cui è nata ma a noi raga non ci va di fare gli short solo per raggiungere il pubblico a noi piace parlare con voi come se parlassimo con degli amici al pub quindi senza fretta sparando tutte le cazzate che vogliamo vi vogliamo tenere compagnia per qualcosa di più di 30 secondi e quindi ci siamo ostinati ad andare avanti a fare di più e lo stiamo facendo divertendoci da più di 10 anni grazie a QDSS ho ancora dolore alla pancia dalle risate che è una cosa che nella vita di tutti i giorni non mi capita mai grazie a QDSS posso giocare a un videogioco fino a tardi e sentirmi meno in colpo perché sto lavorando al canale insomma QDSS non è solo intrattenimento per voi lo è anche per noi ed è sempre stata una valvola di sfogo oltre che un'entrata che ci dava la possibilità di essere meno impegnati io lo dico sempre no secondo me abbonamenti o cosa del genere ah patron no secondo me tipo implementano sì sì però ragazzi noi amiamo voi ci sta eh se amiamo fa i contenuti però ci stanno sordi secondo me ci sta se devi trovare un modo per renderlo sostenibile perché no è un po' cringino il video però ma no no è il loro stile secondo me è pienamente nel loro stile male fa conferma vabbè poi io fa sempre video così seguiti da anni però vediamo vediamo cosa gli abbiamo dovuto seguiti perché a fronte del tempo che ci prendevano non c'era un'entrata di nessun tipo e a noi piaceva un sacco fare i podcast ci divertiva avere una specie di radio QDSS ma lo sapete non è entrato un euro da quel progetto e noi vorremmo andare avanti lo stesso però YouTube sta diventando un lusso che non possiamo più permetterci non così almeno e se anche YouTube pagasse bene è stato il problema creativo tante cose non possiamo farle più quando abbiamo iniziato con QDSS avevamo una rubrica sui giochi zozzi giochi zozzi ragà e ci spaccavamo da ridere certo si censuravano le cose troppo esplicite ma oggi quel materiale anche censurato è tutto invisibilità limitata o è addirittura stato eliminato dalla stessa piattaforma e vi giuro non c'era niente tra l'altro ci hanno cancellato un video l'altro giorno di Creepy Cerbero ah strano più strano no vabbè c'è stava perché già il video originale il video originale mi sa che era dei assi di picche ed era dei video tipo forse era dirette prima della tragedia una roba del genere non mi ricordo se era assi di picco spirale a me e mi hanno bloccato proprio cancellato tre giorni fa mi hanno bloccato un video di 13 anni fa in cui avevo fatto una roba con la gangman style sotto dopo 13 anni Psy è venuto a prendermi hai capito ha bloccato però però cioè no 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 non c'è nessun tipo di ripercussione sul canale ma è tipo mutata se non mi ricordo ok 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 non ho guardato onestamente quando ho visto che non c'era pericolo per i cani mi sono sbattuto in quei video e il video alcolico abbiamo in mente una cosa davvero detto questo insomma regà eeeh stiamo al sotto progetti e community progetti cos'è il nostro Patreon negli scorsi oh Patreon ho trovato un po' di tempo per creare un palinzesto di apertura di tutto rispetto come i nostri Patreon otterrete il ritorno dei podcast in esclusiva e vedrete delle recensioni di giochi che non potremmo mai portare su YouTube perché farebbero 10 visualizzazioni ma magari sono giochi che ci è interessante perché sono proprio video per Patreon anzi la prima ci sarà questo mercoledì alle ore 17 quindi il 28 alle 17 direttamente su Patreon vi racconteremo i retroscena di questa scelta che vi assicuro non è stata semplice vogliamo realizzare delle serie su giochi che ci segnalerete meglio corti così accontentiamo un po' tutti e portarli fino ai titoli di coda fino alla fine vogliamo liberarci da quella mentalità ma è figo che è una cosa la community in rivolta aspetta prima di essere influenzato anche se non credo accadrà in realtà è un'idea carina mi ricorda un po' la roba che fa frusciante nel senso che tu gli commissioni una roba con lo stesso conoscitore e poi è una cosa che non invalida il canale ma è fatta apposta per quella roba lì perché si sono cazzati ci saranno persone che gli farà piacere perché magari dicono questa cosa non l'hanno mai giocata gliel'ho suggerito non mi hanno mai cagato ma la possibilità di fare ma perché è la patria che è morente esatto non mi sembra la piattaforma perché per quello che fa il fusciante ci sta perché alla fine il fusciante però lui rimette pure su youtube sai quale sarebbe la piattaforma migliore per fare ste cose holyfans per il problema è che se fai holyfans è un casino perché ho messo per fare le recensioni personalizzate però se dici che hai aperto di fans tutti pensano che mostri no allora le aziende anche si dissociano anche se non è non lo so il fatto è che 10 euro mi sa grazie bene per l'appolamento regalato 10 euro al mese da quello che ho capito però se caricano abbastanza contenuti effettivamente fanno un bel palinzesto e in un mese dai ciccia per 10 euro ci può stare poi ripeto a fine poi tra l'altro non sto di manca a voi perché pure voi in chat state scrivere non mi sembra nulla di strano però come dice pure Germano è strano quindi le motivazioni sono due o che la loro community è stata abituata è stata nutrita con dei concetti magari sbagliati del tipo non te devi vendere se fai queste cose oppure hanno comunicato del merda a me sto video non è che fa impazzire hanno ricevuto dei blast per questa cosa e non stavo non ho visto allora leggiamo i commenti secondo me hanno pensato che stava a chiudo il canale youtube allora da una parte capisco il motivo e condivido parte della scelta ma così non è sostenibile le fasce sono sbagliate con 5 euro mensile ah quindi sono vari abbonamenti e non potete dare solo i podcast e un canale discord ai miei vostri video vi seguo veramente da quasi all'inizio sta a dire che non sei obbligato infatti ma non ho capito perché sta roba non ti va bene quella fascia non sottoscrivi l'abbonamento pace come prima non posso pagare 10 euro per vedere i vostri video ok ragazzi vi seguo dal 2015 ma sinceramente non sottoscriverò un abbonamento da 10 euro al mese per accedere i vostri contenuti avete una fanbase da 700.000 iscritti vabbè tra l'altro perché tutti tra l'altro non è vero che 700.000 iscritti perché quanto è viso ha fatto sto video vabbè manco male vabbè vabbè è andato benissimo è andato bene è andato bene non ho fatti 160.000 ma in tre giorni no no è tanto è tanto io non sono d'accordo nel blast perché onestamente non è che a letto vi vediamo di notte a rubare i soldi dal cassetto se vuoi sostenere li sostieni se non vuoi non li sostieni ti sentono costretti a doverli vedere hanno pure discrete viso ancora sì ma loro evidentemente o demonetizzati oppure fanno proprio un cazzo con CPM perché vabbè andrà a finire che vi chiuderete in una nicchia di poche migliaia di utenti vi pagheranno lo stipendio e tutti gli altri utenti resteranno esclusi ma perché ma mica hanno detto che smettono di fare tutti i video ma infatti non capiscono però sai che la gente non capisce nemmeno così allora c'è da dire che certi contenuti li porteranno solo su Patreon però il punto è che hanno detto chiaramente che porteranno su Patreon quei contenuti che su YouTube non possono più fare quindi non è che ti escludono se tu cioè il punto è non ti escludono in quanto se sei un utente di YouTube comunque quei video non li vedresti poi posso dire una cosa anche volessero smettere di fare contenuti ma saranno cazzi loro ma infatti questa cosa io non capisco poi per carità può dispiacere da fan no però le persone secondo me devono un attimino capire che iscriversi a un canale non equivale a comprare la persona che l'ha creato cioè non puoi non puoi dire ah mi sento offeso mi sento rarito perché hai aperto Patreon non smettono di fare video su YouTube non lo so poi qualcuno parla vedi da Dio grazie di tutto quindi può essere pure ripeto l'abbiamo visto velocemente distrattamente può essere pure che loro hanno fatto intende che faranno quasi solo video lì o comunque dedicheranno praticamente solo lì però cioè non è che sono morti no ragazzi ma magari non faranno più con quella frequenza quando tutti lavoriamo eh sì quello io non vorrei essere nelle panni di chi farò YouTube era a tempo pieno e sperava di campare di quello per i prossimi anni a venire ma che vuol dire cioè io voglio parlare? parli parli in senso poi dipende molto la canale la canale perché comunque io ci vivo benissimo eh tu lo fai dai tempi di Tutankamon sì io ci vivo bene arriverà magari il momento in cui ci viverò meno bene e quando arriverà quel momento troverò qualcosa un exit strategy ma poi in realtà c'hai già progetti pure paralleli cioè pure sta roba dei libri eventi poi spesso collabori con un brand se io potessi scrivere libri d'altranza c'è una bella fanbase ma sì poi nel senso è ovvio allora il punto è questo ci sono anche a me c'è stato un periodo mesi fa che improvvisamente i guadagni erano crollati ma perché tra moltissime virgolette erano limitati i video? no semplicemente l'RPM che è il per chi non lo sapesse il valore in denaro per ogni mille visualizzazioni era calato perché ogni tanto succede l'RPM molto ballerino era calato per modo di dire perché comunque la cifra era una cifra più bassa rispetto alla solita ma è una cifra già comunque alta si era portato a uno stipendio medio e gli ho detto se dovesse calare ancora che per qualche mese guadagno di meno pazienza quant'è calata? no no non si parla non posso uno o zero come percentuale dico si era dimezzata io mi ricordo quelle dell'epoca comunque mi ricordo la stima però te parlo di tre o quattro anni fa non so come sia attualmente youtube io offline online non mi piace dire guadagno perché è una roba volgata no 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 io intendevo la percentuale però tu dici giustamente poi tramite quella ti posso dire che rispetto al mio solito si era dimezzato improvvisamente però voglio dire non sono andato in panico ho detto può succedere se dovesse calare ancora e dovesse rimanere così innanzitutto contatti l'assistenza perché è strano però nel caso comunque trovi un altro modo loro hanno trovato questo io non ci vedo niente di male nel dire raga diamo dei contenuti un po' più magari liberi più che interessanti perché il problema è che loro si sentono limitati dalla piattaforma diamo dei contenuti più liberi in cui facciamo quello che vogliamo solo che li pagate voi un tot al mese se vuoi farlo lo fai se non vuoi farlo nessuno ti obbliga a farlo a me è questo che dicono io non pago per i contenuti basta ma nessuno ti obbliga è come capito è come capito che dice a sub capito ma per rivedere i pod devo pagare per le varie pubblicità io sono totalmente dalla loro parte ma sì infatti uno è libero di non farlo probabilmente magari le persone dicono magari io faccio già 3.000 abbonamenti 10 euro in più per molti non lo so ragazzi io penso che sia un problema dei fanbase nel senso che le fanbase che rispondono così male e qua appunto mi sembrano pareri di fan le vanno i commenti idioti sullo youtuber come questo che abbiamo appena letto che quelli sono i classici signori mauro frustrati che devono scrivere le loro cazzate però mi sembrano tutti i fan evidentemente non lo so l'hanno presa male perché non erano abituati a sta roba ti posso dire una cosa strana non ti sembra una roba fuori tempo massimo perché una cosa del genere l'ha successa con i The Show ma tanti anni fa cioè mi sembra è una roba che fa tanto 2014 no ma non tanto la loro idea quanto la reazione non capisco bravo me sono stupito della reazione è una roba da 10 anni fa questa è stranissima venduti venduti eh capito cioè io pensavo che avessimo superato cioè come adesso ormai quando fai uno sponsor allora il pirla che arriva a dirti quella bella marchetta ci sarà sempre per l'amore del cielo però una volta facevi una sponsorizzazione grazie piombo facevi una sponsorizzazione e arrivavano le persone che dici venduto venduto adesso è una cosa che a parte quei due o tre che vabbè poveretti non è più una cosa così cioè gli youtuber gli streamer possono fare sponsorizzazioni senza beccarsi del venduto fai schifo come ti permetti comunque dicono vedi hanno già 1500 sub su Patreon non penso sia un flop beh se so non so tutti da 10 euro vabbè però è buono anche che ti tieni su 12.000 euro al mese va bene ma poi di base di base va molto bene non va bene solo su Patreon no ma di base cioè nel senso alla fine quelli che ti supportano magari con sub che ne so paganti o anche non paganti è ovvio che è sempre una parte della community che ti apprezza tanto oppure che vogliono vedere quel contenuto per esempio noi abbiamo anche gente che non è super fan nostra però spesso è interessata ai contenuti e uno se vuole vedere pubblicità durante i live oppure se vuole recuperare subito le live sia quando le mettiamo su YouTube sia su Twitch vuole vedere quella roba e si fa la sub per accedere al contenuto però dovete capire una cosa 12k al mese ma sono in due ci sono le tasse hanno un team personale a pagare non sono tanti sì 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 cioè loro che dicono Alex Bucci grazie 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 grazione però il discorso secondo me qua è cioè se li fa tipo io non ho un team ok il motivo mi fa perché non vai in team perché no perché così sono tranquillo è certo capito però dovresti evolvere io mi evolvo in altri modi ho i miei modi di evolvermi poi magari un giorno farò un team poi c'è un modello diciamo di business particolare però sostenibile la problematica è vecchio ma granitico è lì ma sì tu quanti video fai a settimana? ne faccio in media dal lunedì al venerdì uno al giorno sei di media di media cinque che diventano anche di più dipende dipende se c'è un periodo intenso ne butto più certo se c'è un barodella ci sono motivi quale è stata la settimana in cui hai fatto più video? quanti video? durante gli Oscar posso farne anche 12-13 in una settimana? guarda durante durante il periodo di spadermano ma ne grapperone eh sì da puttana ma però il periodo di spadermano come gratter Victor vincchia che gratter della spadermano proprio porca macchina grande gran lavoratore ma si è il calzino tutto tutto mi laslo su pampli schippo sempre l'inizio che le pampli mi interesse schippo fissolo l'inizio però mi vedo io ho fatto un corso di PNL e tu quando ti addormenti c'è la mia voce che dice codice eccetera eccetera e poi prima o poi dovrai comprare è indottrinamento ma infatti lui se sbaglia lui spesso dice a tua e no a sua se sbaglia a me lo chiedono spesso ma non lo fa apposta io faccio vilaslo perché me l'ha confidata a me perdona che lo dico lui se sbaglia questa cosa che hai detto tu poi fa finta che è una battuta ma lui se sbaglia sai quanti soldi perde al mese è una cifra è vero ho fatto vedere i bilanci che va male quando si sbaglia però il discorso è che se io se io decido di fare un Patreon o cose del genere non vedo dove sta il problema cioè il punto è non ti abboni al loro Patreon va bene così capisco se lo dico chiudiamo il canale è il solo Patreon anche fosse così cioè capite che comunque se 12k al mese tolte le tasse tolto il fatto che sono in due non sono tantissimi figuratemi 1800 euro hanno fatto vedere che era 1800 euro effettivamente 1800 euro per il canale che hanno loro no non c'è per niente è poco poi magari c'hai antitroidi ovvio però stiamo noi che non ci vedo comunque ormai devo fare occhiali da vista 8600 non vedo un cazzo 96 me devo fare occhiali da vista incredibile una roba che poi siamo che sono ricco no semplicemente sopravvivo va bene poi c'è uno stile di vita molto sobrio si spendi solo incazzate fumetti cose così ma mangio tantissimo quindi no però il discorso è che io sono una persona semplice nel senso che per dire se io ho 40-50 euro in banca fai finta si si ma te non sei uno che spera ma va una crema vivi tranquillo una crema totale poi ovvio devo superare il mio astio nei confronti della burocrazia che io magari faccio tipo tre mesi a non fatturare perché mi viene il vomito all'idea di fatturare per modo di dire c'ho il rifiuto e continuo a più procrastino dico ma no dai lo faccio domani domani quel domani diventano tre mesi dopo però ho capito quindi magari poi mi scende un sacco mi scende un sacco di soldi perché non fatturo per mesi quindi vado a ondate io invece guadano tantissimo ma spendo tantissimo non che sperpero io però hai spese finite sì immagino molto grave questa situazione appunto non è il Patreon in sé ma il modo in cui sono posti nel abbiamo poco aiutateci vabbè poi ovviamente come dicono molti questo è solo il primo canale c'hanno 700 canali sì però io non penso che gli altri canali piccolini facciano chissà quanto se il primo canale fa 1800 scusa hai avuto hai avuto un momento hai avuto un momento di lucidità io spendo tantissimo cazzo ma guarda che non sto a scherzare no però hai avuto tutto scherzoso tu sei diventato serio per tre secondi sì è una roba grave perché la colpa è dei dieci gatti quelli magnano sì sì è il problema guarda mi hanno sfonnato capito stanno male i gatti poi si infettano a vicenda finito basta cioè sta indietro per se orco 2 e poi per 10 cioè qualsiasi spesa infettiva di quel tipo per 10 no io non ho Patreon ragazzi però se anche tipo il frusciante con Patreon fa un servizio molto semplice da za anni za anni za anni non lo so ragazzi sì poi c'hanno i canali personali quelli privati c'hanno sia Sinergo che Redex quello che fa di più è il secondo perché li caricano tutti i giorni di continuo perché mettono magari sono pure video lunghi però ripeto non è che uno deve fare i conti in tasca quello che dico è che è curioso vedere la reazione c'è pure questo no guarda anche solo un euro al mese per centomila persone che vi guardano ogni giorno e risolvete tutto mi dispiace ma dieci sono troppi addio ragazzi secondo loro questa drammaticità secondo loro quando un video fa cento centocinquantamila visualizzazioni sono tutte persone diverse perché il concetto di spettatori non esiste per questa gente e soprattutto tutte quelle persone sono persone che li seguono indifessamente e sono disposte a spendere anche solo un euro magari magari è gente che capita per caso sul video e non sa chi cazzo sono facciamo una prova ragazzi noi in live siamo 2517 donate tutti un euro sono un euro però in questo momento una cosa non l'avete mai sentito cioè io l'ho sentita di spessissimo è una cazzata è una cavolata che ti dice tutti quelli che oh ma te c'è 10.000 follower su Instagram tutti 3 euro ognuno che poi è la stessa stronzata che si fa che si fa tipo a livello globale mi piace la supportività della chat ma corcati chi ti sei in cula addio bravi così si fa così si fa ma è giusto ma è tipo c'è il problema pure della fame nel mondo fate la sub se tutti quanti nel mondo donassero un euro per l'Africa si ovviamente l'ira dei massi ma dici prendi l'occidente donano tutti un euro si ma risolvi il problema se no è un problema della fame però c'è di a un penny però diciamo che comunque dai tanti pasti a dei piccoli africani sicuramente però il discorso è che non funziona così cioè funziona che quando tu fai un progetto che coinvolge donazioni tipo non so anche quello si parla prima del libro no? si io ho 315 316 mila iscritti non venderò 316 mila copie del libro certo ovvio ok? tu dovete considerare che la percentuale di persone che aderiscono questo tipo di progetti è infima rispetto a quelli che hai 1200 abbonamenti su Patreon su 700 mila iscritti uno a mille si si ora vediamo pure il Patreon non lo specifico che sono tantissimi 1200 abbonamenti però per farvi capire qual è il rapporto su 700 mila iscritti 1200 hanno sottoscritto un Patreon che sono tanti nell'ottica Patreon ma nell'ottica al rapporto quelli che l'han fatto su tutti gli iscritti è infinitesimale a parte il fatto che comunque secondo me non bisognerebbe vedere ovviamente gli iscritti al canale ma al massimo la media delle visual anche sì c'è un canale molto vecchio molti account sono vecchi magari gente l'ha cambiato non segue più però lascia il follow cioè pure noi su Twitch non so neanche quanti follower perché su Twitch poi sono inutili tipo 300 mila una cosa del genere ma quando mai sono arrivate quelle notifiche mai ovviamente sono inutili proprio ma che dama all'Africa quello è il senso è diversissimo perché poi loro fanno gaming e il gaming ha un RPM bassissimo rispetto a quello che ha il cinema rispetto a quello che hanno tipo ad esempio c'è stato un periodo che quelli che parlavano di Bitcoin avevano un RPM che non aveva senso non aveva senso tu con un video di 10.000 visualizzazioni guadagnavi come come quello che guadagna un gamer con un video da 600.000 sì 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 noi per esempio su YouTube facciamo circa sui 10.000 al mese però carichiamo un paio di video al giorno voi su YouTube fate 10.000 sui 10.000 intorno però considera che carichiamo di media due live al giorno voi potete anche per mettervi no perché sono ri-upload non sono contenuti nuovi capito è una cioè è super sostenibile non c'è un lavoro dietro no 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 non c'è l'unico lavoro e ti ripeto la copertina il titolo i tag però anche qui 10.000 euro che vanno tassati e sono tipo in 180 sì capito diviso 5 poi c'hai considera che è pure vero che i nostri video moltissimi sono demonetizzati o con copyright alle volte non lo tagliamo perché magari facciamo delle scenette divertenti no che ne so ieri abbiamo fatto una clip del gabrone con lacrimosa no di paoletto spartano è demonetizzata la live intera ma sti cazzi è un momento bello anche perché poi il nostro cioè reale contenuto è su twitch poi quelle sono ricaricate e più ci abbiamo anche anche su youtube gli abbonamenti eh certo ce l'abbiamo boh mi pare 1700 non mi ricordo adesso su youtube quasi 2000 io l'ho messo era più una cosa simbolica che altra c'è tipo dai support c'è il gruppo telegram ogni tanto passo anch'io il gruppo disco l'avevo fatto poi non entrava mai nessuno anche perché io ho un rapporto ad esempio con la community diverso rispetto alla media cioè seguo tanto la community ma singolarmente cioè io rispondo messaggi non riesco a stare dietro troppo ai gruppi telegram perché ho talmente tante cose da fare che mi viene difficile però tipo rispondo a tutti quelli che mi scrivono su instagram più o meno ovviamente quindi ho un tipo di rapporto diverso per cui col fatto che magari non sto troppo dietro al gruppo telegram non è che mi fanno tanti abbonati no no chiaro noi perché abbiamo la playlist dei abbonati che ci sono video anche particolari video vecchi eccetera quella sta fissa più l'anteprima sui nuovi video più vabbè come dici te il supporto quello standard più anche live vecchie che abbiamo messo solo per gli abbonati e poi alle volte facciamo come su twitch che li mettiamo in anteprima per gli abbonati e poi facciamo una live fissa a settimana che è il venerdì a mezzogiorno fissa sì esatto mezzogiorno di fuoco e poi regà è che poi considerate pure una piccola cosa però perché giustamente dicono ah porco dio 10.000 euro al mese youtube sì regà però considerate che su quel canale ci stanno circa 3.000 video che molto spesso vengono rivisti cioè il più grande introito non è i caricamenti settimane il fatto che ogni settimana noi cariciamo due video al giorno in più c'hai tanti video passati per esempio già victor è più difficile che uno si vada a vedere una recensione vecchia no no è difficile no cioè magari uno dice oh cavolo fammi vedere se quel film ha recensito voi fate un contenuto davvero è difficile io pensavo che invece era un contenuto abbastanza immortale lo cerchi però molti magari se vedono un film e poi vanno a vedere le recensioni però contemporaneamente che ne so in un mese quante persone vedranno la recensione sai cosa è il fatto che voi fate entertainment puro soprattutto voi fate avete quando fate i gate tipo i video su l'innominabile sì 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 su l'Iccardo quelli tu quelli considera che ogni mese cioè vengono visti secondo me da circa mille persone guarda non so no per dire che da in totale a quarantena no che a settimana vengono visti più o meno da mille mille cinquecento persone io sono la prova da probabilmente un sacco di vostre live ricaricate e poi molti non direi certe cose no però molti le mettono in sottofondo e tante partono e magari se le soppersi anche perché per esempio mi ho messo una cosa interessante youtube per non sputa merda che ti mette una sorta di playlist dei video che non hai visto ah sì sul canale no e canali come il nostro beneficiano di questo perché comunque i nostri contenuti che si spesso sono legati all'attualità però in realtà spesso te la metti in sottofondo ah non l'ho vista sta live ma recupero capito già la recensione è più specifica cioè tu devi andare a cercare una cosa diversa pure a me mi capita di vedere recensioni due vecchie avevo pure scritto l'altro giorno non mi ricordo che cazzo me l'ho visto però ah sì quanti possono vedere la stessa recensione di quel film vecchio nello stesso mese allora questo capita con quelle in cui mi incazzo perché sono divertenti esatto e allora se le vanno a rivedere esatto se parliamo delle recensioni serie perché poi ecco io tra l'altro io volendo potrei fare questa cosa che mi metto a fare solo recensioni di quel tipo mi faccio una montagna di soldi però il punto è che non voglio a me quelle divertono le faccio una volta ogni tot poi tra l'altro le faccio sempre solo quando trovo un film che mi dà quelle vibes non le forzo mai non le fai forzate c'è stato un periodo mese scorso che ne ho fatte due nel giro di dieci giorni perché c'erano due film che ho detto questi sono perfetti e allora l'ho fatto ma è stato un caso era il solito idiotti 3 e Madame Web è stato molto brutto ok e quindi raga in realtà cioè di quei diecimila ripeto a parte la parte di abbonamenti la maggior parte sono introidi di vecchi e live poi attenzione diecimila ma vanno tolti perché ricordiamo che youtube si perde il 30% di abbonamenti più ovviamente network pure nel nostro caso però vabbè ripeto guardate che tra tasse percentuali da dare eccetera ti mangiano via un sacco di soldi ma noi poi ripeto non ci siamo mai lamentati non abbiamo mai frignato poi appunto nei momenti in cui sono stati momenti in cui il canale youtube non ci faceva monetizzare niente ve l'hanno anche scoppiato a parte scoppiato più volte ma ci sono stati un periodo che non monetizzabili ma spesso succede spesso succede che proprio abbiamo delle mesate intere in cui non c'è un singolo video verde sono tutti di default gialli e quelli a prescindere lo sono chiedi la revisione non diventano monetizzabili tutti ma pure per due mesi di fila e amen come dicevi te calano i guadagni e vabbè pazienza poi su twitch fai tranquillo che un modo per non morire di fame si trova sì a me sai cosa fa ridere quelli che dicono poi quando cali cosa fai pezzente a parte il fatto che voglio dire in generale quelli che augurano agli influencer di morire di fame lì è proprio l'invidia perché sotto sotto tutti vorrebbero fare questo solo che non sono informati di quanto può essere cioè voi non avete idea il rischio più grande in questo mestiere sono esaurimenti e depressioni ed è un rischio molto concreto soprattutto negli Stati Uniti America ci sono stati tanti casi di influencer che si sono tolti la vita quindi è molto stressante sembra ragazzata ma in realtà non lo è perché per dirvi io adesso ti racconto questa brevemente l'altro giorno faccio il video su Dune ok perché l'ho visto in anteprima un'ora e un quarto di girato ok finisco guardata la spesa mangio mi metto per per montare convinto che l'avrei fatto in tempo perché poi se la sera dovevo andare a fare un evento proprio per Dune lo metto su Vegas non c'era l'audio muto no avevo la gola così classico quindi io mi sono dovuto cioè so che può sembrare una roba ti sei ridoppiato l'ho rifatto subito ma voi avete presente cosa voglia dire fare in un giorno no due o tre ore di un contenuto in cui non fai altro che parlare cioè tu non devi lasciare vuoti quindi avete mai provato a parlare in interrottamento per tre ore ragazzi vi giuro io il giorno dopo non avevo più voce dimmi cosa hai provato in quel momento innanzitutto mi sono sentito vicinissimo a Dio ma veramente vicino e poi non dico per fare cosa e poi niente mi stava scendendo le lacrime al nervoso ho detto mi sono ricomposto il problema è che poi dovevi montare tutto quindi io mi sono ucciso metaforicamente per arrivare a far uscire il contenuto ora non sto dicendo che è meglio in fabbrica è peggio ma ovvio che in fabbrica è peggio grazie al cazzo ma sì ma però voglio dire cioè ci sono anche ci sono anche c'è anche la miniera che è peggio della fabbrica capito la miniera no non è non è questione di no non c'è il backup no ha registrato se ne ha registrato l'audio non c'è l'audio rega punto è la registrazione che è andata può capitare attenzione capita a te è successo pure ma può succedere quanto avevi registrato vabbè i video miei uscivano fuori dai 10 minuti le registrazioni erano dei 40-45 ma comunque le reaction lì che dicevi tutte cazzate e poi non ti vengono più capito è brutto là lo scam è un altro non è ho parlato a vuoto non riterò più come ho riso perché è la seconda volta che ho vedo certe battute che mi sono venute che magari voglio ripete vengono peggio perché non è come quando ti viene il guizzo capito spontaneo altri malus quello fa due o tre ore sono cazzato rega due o tre ore è la registrazione poi c'è tutto il lavoro di montaggio ma quello è un trollino rega io stavo 40 non è per dire io editavo tipo per 15 ore per faccio in video c'avevo un montaggio che stavo là tutto ieri sera la nostra serie è dedicata alle barzellette che non c'entra un cazzo con i videogiochi ma è talmente cringio ah è ripartito i kudos a proposito vediamo il padre non so curioso allora prima aspetta finiamo i commenti perché mi stavo divertito oddio è un colpo al cuore vabbè comunque quando nel 2021 è editato il video compilation di tutti i motivetti canticchiati da reddits su alt4 e voi mi avete risposto sono stato il ragazzo più felice del mondo cioè raga ma non sono morti sembra un elogio funebre letteralmente e vedere questo fa male sono stato il primo a supportarvi iscrivendovi al Patreon ma 5 euro solo per i podcast non so grazie mille per la sub e se per me economicamente fosse facile vi supporterei pieno ma non riesco il migliore è lui il migliore è lui questo? sì ciao ragazzi vi seguo da qualche anno insieme a voi ho passato moltissime ore senza pensieri vi ho fatto conoscere pure i miei figli non ho mai commentato il video perché ho 36 anni vi guardo mentre aiuto in casa la moglie vi ringrazio di tutto ma chiaramente non posso permettermi un abbonamento così alto e vedo che su Patreon il numero di iscritti fatica a salire credo che anche voi come altri creator dai 700.000 iscritti ne avete un 10-15% attivi e credo di questi solo un 1-2% potrà sostenervi ha fatto tutti i conti lui ma che è commercialista la natura del canale è nata con la natura della piattaforma gratuita capito la natura cioè capito per queste persone gli influencer devono devono darti intrattenimento gratis perché non è un lavoro è questo il senso capito? ma porca scusate ma che poracciata ma poi quanto è brutto quando tu scrivi qualcuno che te segue tutti i giorni magari cioè non è che sono ma voglio dire ma non sono andati di obbligare qualcuno cioè non capisco questa cosa del eh sai siete nati gratuitamente ho capito questa cosa che l'intrattenimento deve essere gratis anche la terra è nata gratuitamente la terra cresce sugli alberi ma le mele costano 3 euro al chilo la terra sotto i nostri piedi scusami cioè vendetemi questo stabile no? boh che cazzo scusate io sono totalmente con loro due scusate ma ma che poraccia poi vediamo il padre magari danno poco però vabbè cioè pure lì ma perché poi conoscendoli sono anche molto professionali mi fa strano che ti danno poco ma poi volendo non posso dire una cosa c'è sta la critica ovviamente nel dire è troppo poco per quello che chiedete però comunque ripeto è sempre opzionale capito? non ti li dai non cagare cazzo spesso grazie porca madonna cioè per noi per esempio spesso cioè per le sub qui su Twitch cioè lo sanno che il modo per sostenerci è per vedere quello che continuiamo a fare ogni giorno poi è una cosa in più ti rivedi la live non vedi le pubblicità su tutti i bonus però de facto è ciò che tiene in vita l'intrattenimento giornaliero del cerco sì sì non è che sei obbligato no è come quelli che dicono che cazzo la maglietta costa tanto e vabbè non è che è un problema a me fanno sempre saltare i nervi quelli che tipo non vogliono neanche vedere le pubblicità cioè lì dici ma capito però proprio niente dammi in colpo diremo qui scusami sì sì scusate ma che poracciata la maggior parte degli introidi su YouTube arrivano dagli sponsor ed è così per tutti ma che ne sai ma che ne sai ma ha già deciso capito ma sì ma poi cioè magari non ce l'hanno non vogliono accettare certi sponsor no sì ma magari è pure peggio cioè io te devo sponsorizzare e portate magari molti sponsorizzano roba che per loro però anche qua non è positiva e così non fanno male a nessuno poi è legittimo aprire un Patreon chiaro ma potete farlo senza chiedere le lemosina non è le lemosina ti danno ti offrono ti offrono si chiama ti offrono un servizio e tu paghi quel servizio non è le lemosina non è che io mi sto a cazzare per loro ti giuro al posto loro penso che andavo su tutte le furie secondo me hanno un po' sbagliato pure a me ha un po' cringiato il video però regà non nel merito cioè potete dire sì io quando quando ci fu 52 abbonamenti quando lo fecero anche io no non adesso anche io scrissi un post mi ricordo su Facebook simile a questo e io mi prenderò a schiaffi perché era un altro era un altro però perché lì secondo me l'aveva messa giù male anche loro all'epoca cioè loro due quello che su server l'aveva messa giù molto meglio secondo me ed era anche un periodo in cui questo tipo di cose non erano molto capite qua in Italia neanche dagli influencer stessi per quello che ho detto che siamo una reazione fuori tempo massimo è una cosa che avrei capito nel 2015 ma nel 2024 è una cosa talmente normale che mi fa specie che abbiano reagito così tanti infatti pure a me guarda qua boh contenti voi adios è la citazione a cannavacciuolo addios è vero è cucina da incubo questo è colto però questo è colto però che cazzo io sono studente non ho una lira fatevi due domande se guadagnate meno contenuti bassi siete sempre lagnosi non avete più voglia partite prevenuti bene tanto di cappello vediamo allora ok bella la grafica kingdom 1300 caspita hai detto poco allora bassallo coi tu sul server 5 euro al mese più bat fai parte del kingdom avrai accesso informazioni avrai il nostro eterno rispetto ce ne frega un cazzo otterrai grazie di cuore accesso a un gruppo discord ok podcast esclusivo live esclusive posso già tre contenuti esclusivi a 5 euro buttali via periodici tre contenuti periodici a 5 euro scusate ma non mi sembra ma poi ripeto poi se pure 50 euro non lo fai poi 10 euro c'hai discord live esclusive podcast torneo di peggole esclusivi video barzellette esclusivi video barzellette secondo me di potenza devi anche pensare che sono contenuti pensati per la community che li segue quindi sono cose che non fanno più da un po' di tempo quindi sono delle chicche ci sta secondo me poi c'è il 13 13 allora discord podcast backstave live esclusive accesso a anticipati video speciali proposta dei giochi da giocare non ho capito in che senso nel senso che tu puoi esatto puoi hai parte attiva nel contenuto video di barzellette tornati peggole sconti esclusivi sul merch questo può essere interessante la if spettacolo completo grazie di cuore ah si è il loro spettacolo quindi ti danno la registrazione che non beh raga qua è una buona tecnica perché per 3 euro in più vale la pena carino 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 sì cioè conti fatti bravo e sono di più contenuti con 3 euro in più rispetto a questa classica tecnica loro col marketing sono bravi raga vabbè certo io non è che mi aspettavo di trovare un patreon 20 bocca 3 però scusate secondo me però per avere dei contenuti di un certo tipo fatti in un certo modo perché poi ovviamente i contenuti per il patreon saranno fatti anche infiocchettati molto bene non mi sembra una già solo quello da 5 euro comunque c'è un altro da 45 euro al mese che cazzo è erculo ti mandano un prosciutto oddio aspetta del culo di sinergo assurdo allora un oggetto coi due sul server un oggetto aspetta aspetta questo è importante allora ogni tre mesi ti mandano un pacco speciale dal Molise ok questo è vero per tre pacchi all'anno allora primo pacco c'hai un oggetto cosa magniereccia ma davvero l'avevo letto in giro io stavo scherzando ma allora lo faccio subito il formaggio il formaggio del Molise scherzi a parte il formaggio per il formaggio della Molise no il formaggio della Molise li spendo no no nel senso positivo una cartolina firmata a mano da Mario e Nicola vabbè una scatola di incipit uno di tre set collezionabile in stile Lego che bello bello è carino una sorpresa ma la Lego non è d'accordo spedizione all'estero non riusciamo a spedire poi vabbè c'hai tutti quanti bonus di qui sopra pacco di Molise ok no c'è le stesse cose più il pacco e poi in base a quanti support di questo livello fanno delle cose ok ok ma figo vabbè facciamolo dai ma dai apriamolo con la 45 45 45 al mese è buono dai let's go prosciutto e formaggio sai che mo non ce pago più più il garage e gli do a loro così almeno c'è costato c'ho le stesse uscite capito ma sono 45 non lascio la macchina fuori o il tutto al mese grazie aste vabbè c'è postata io concordo assolutamente onestamente ma sì allora però adesso l'idea del pacco da giù nel Patreon cioè per me è proprio bella cioè è proprio divertente come cosa il fatto che ti mandano il pacco col formaggio la box col formaggio è carino c'è il meme del pacco da giù a me queste cose qui fa ridere sarò semplice io non lo so sì 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 assolutamente sì la mattina la matitina che vuol dire marra la matitina non ho capito vabbè allora ragazzi devo andare a mangiare se no ci chiude tutto qua grazie è un impegno hai un impero un impero hai un impegno su impero no no allora buonanotte a tutti ma poi c'è la maniera da quattro e uscì dai grazie mille per i beat Soko grazie a tutti grazie ovviamente al mitico Victor Lislo grazie comprate il suo libro che si chiama cosa guardo cosa guardo è un ottimo libro grazie Marco a parte quello che ci ha fatto vede che si guarda durante questa live non c'è quella roba è un ottimo libro per rispondere alla domanda che spesso ci fanno quelli che si fanno punge ma che cazzo mi guardo stasera mi consiglio un film caro Victor bene lo potrete trovare su Amazon o nelle librerie fisiche ci vediamo domani a mezzogiorno di fuoco su YouTube ciao ciao che squali state arrivà è l'ho crocian a mezzogiorno di fuoco che sembra assurdo state pure registrando aspetta tu cazzo